Buonasera a tutti, grazie di essere di nuovo qui anche oggi alla quinta giornata della nostra conferenza dedicata al Designing Seaving Consciousness, quindi diciamo vi immagino provati di tutto questo tempo ma oggi sarà una giornata direi particolarmente ricca, forse anche troppo mi è stato detto, per gli interventi che si susseguiranno fra poco e lasciatemi però, dato che è l'ultima giornata in cui ci vediamo in questa settimana, ringraziare tutte le persone che hanno collaborato all'ottima riuscita di questa iniziativa. A cominciare dai corsi di laurea in design dell'Università di San Marino che si sono presi diciamo l'onere della logistica e dell'organizzazione di questa conferenza, quindi con i due direttori Alessandra Bosco e Michele Zannoni, tutto il gruppo che ha curato la comunicazione dell'iniziativa Giuseppe Di Geronimo, Silvia Gasparotto, Elena Lamaida, Caterina Lipari, Tommaso Lucinato e Ilaria Ruggeri Paola Cenci della segreteria dell'Università, tutto il gruppo degli studenti che si è preso carico dell'accoglienza all'ingresso delle nostre sale Il gruppo video che ha lavorato incessantemente per realizzare delle piccole videoclip quotidiane Olga Barmine e Alison Bron per la traduzione in tempo reale ai nostri ospiti E ovviamente Usma Radio per la diretta radio che ha organizzato tutti i giorni Oggi come vi dicevo la giornata è abbastanza ricca di interventi Abbiamo utilizzato la modalità del pitch, cioè interventi piccoli e mirati di una decina di minuti circa ciascuno In maniera tale da avere una panoramica di esperienze, di progetti che provengono da una serie di università italiane e straniere E che si occupano in questo momento di progetti legati alla sostenibilità, legati all'innovazione sociale, legati alla crescita civile dei cittadini in generale Adesso iniziamo appunto questa giornata intitolata Idee e progetti per un curriculum di educazione civica Con innanzitutto i nostri ospiti internazionali Anche se ovviamente anche tutti gli altri sono internazionali provenendo in questo caso dall'Italia che è un paese estero Diciamo più internazionali E I'm pleased to invite Don Avnon from the Hebrew University of Jerusalem Thank you very much It's a pleasure being here and I thank my host for inviting me I'm sorry I could not have been here all week In Israel the university is in full session And I could not be excused for my duties before yesterday It took me a day to get here from Jerusalem My forefathers came to Ottoman Palestine 200 years ago In order to save the world They were ultra-Orthodox Jews who believed in redemption They settled in Ottoman Jerusalem And that part of my family lived there until 1948 In 1948 Palestine was partitioned East Jerusalem became East Jerusalem Before there was Jerusalem After the war The walled city of Jerusalem Like this walled city here Up here in San Marino Became Hashmite Kingdom of Jordan The other part West part of Jerusalem Became Israeli Jerusalem I was raised My family lived in the walled city Of Jerusalem And after the war Those Orthodox, ultra-Orthodox Jews Moved to West Jerusalem And the point being We moved from one space to another They moved to an ultra-Orthodox neighborhood in Jerusalem My branch of the family had already split off Orthodoxy My grandfather was all not that His moral character was secular Not Orthodox And we became secular In 1967 Jerusalem underwent change again Because of the 67 war What was called East Jerusalem Became part of larger Jerusalem But all the history is there In terms of my experience In my generation We split off from our Orthodox family All of those Orthodox Jews Who do not believe in Zionism Who think that the Messiah should save the world Not political states Are not part of my background In all of my years in Jerusalem I have not had one Arab-Palestinian friend We have associations Based on professional experience Very limited My children, my sons Who grew up in West Jerusalem Did not share programs Arab-Palestinians for sure not With religious Jews We have different school systems We have a secular school system State-funded We have a religious school system State-funded We have an Orthodox school system Outside the sphere of secular thinking And Arab-Jerusalem Palestinian-Jerusalem Go with the Jordanian school system Which means In terms of what you have been Hearing this week It looks like one space If you take it from a satellite East Jerusalem Is more distant in consciousness Maybe than San Marino In many ways Because the culture is so separate The politics keep it so And many other things That I will not say in my 15 minutes So this is point one About spaces and consciousness Each generation At least in my family Grows up with its ways of separation That the state and the municipality Actually helps East Jerusalem is East Jerusalem West Jerusalem is West Jerusalem Orthodox West Jerusalem Is different from secular West Jerusalem Which is different from national religious And we all have different educational schools So you can grow up in the same space And in terms of the language The culture And what is called consciousness The separation is institutionalized Now I took upon myself Because of my life experience In other areas too To try to change that And that is actually why I'm here I came into civic education In the late 1990s Ordinarily I'm political theorist Because I was very frustrated By the Israeli political process On the secular side You meet Israelis growing up Without a shared civic language If you grow up in a left-wing home liberal You have a certain idea Of what politics is about If you grow up in a national religious You have another idea And of course if you're Palestinian Arab Israeli Or if you're Orthodox Israeli You have different structures of authority It could be God It could be your rabbi It could be your imam It could be the supreme court It could be some other source And when we talk about spaces This is part of the consciousness You have some formal structure That says this is what democracy And the process is And you have consciousness And subjects who translate it According to their life experiences And I can go to a school And teach civics And say how great it is To be tolerant How good it is To appreciate the other How important it is To embrace diversity And you live in a city That in your everyday experience Is the exact opposite of that This is something That happens all over the world But I'm talking about my world So for my world We started small steps To change that At least for individuals I'm not ambitious beyond that If one or two people change Maybe that would make Greater change later So what did we do? A strategic decision To think about We thought That education is a key And education The hard way The hard way Is through the state system It's the worst possible choice For a good life To try to change The minister of education The bureaucracy in education The politics around bureaucracy It's much easier To set up an independent school Or a small NGO To feel good Do it that way No We said we want to change The system from within And we did it In four different ways Using the university Prestige Brains And resources First thing we did And this is 2001 We set up In our university An MA program In civics With a curriculum Which would change Teachers of civics Into teachers of civics And why is that so? Because until 2001 Teachers who taught civics Were actually history teachers Now think about it A history teacher In the national religious school system The history teacher In the secular school system A history teacher In the Palestinian Arab school system And there aren't any history teachers In the orthodox system They don't teach history How can a history What is the professional background Of a history teacher To teach civics? It sounds as if it is If history is a strong component Of civics But there are some other Principles and things That should be understood Beyond history Or before history This program was set up In a way Incidentally funded All of it From sources External to the university Universities don't invest In such things For those of you Who are scholars They know it Those of you Who are students That will be activists One day You must have your own Independent sources of funding If you want to get Something long term done If you have to work With the university budget You're already constrained So we found funding From all sorts of sources And the program Was like this Civics teachers From across Israel Got fellowships Fully paid For two years We got the ministry To pay for it And donors to pay for it And for two years We had They took an MA degree Not thesis oriented It was A regular MA degree In democratic civic education We put tremendous effort To have Arab Israeli Palestinians And to have as many West Bank settlers And all of the extremes Within the core Which is of course Well I can tell you Secular, liberal People who come from The mainstream Of Israeli society So each group Of those teachers On an everyday basis Like those of you Who are students here Just met in classes Studying all sorts of things Other human beings Who are also teachers And who come from Different places The courses were not About how to be good friends The courses were about What you teach When you teach civic education After a year We discovered That we don't know How to teach We scholars Don't know How schools work So we set up A school On our campus A three year program Where children From the different Teenagers From the different School systems Were given an opportunity To come to the Hebrew University Once a week For three years To get An advanced Matriculation In civics There Again A third of the class Were Arabs A third of the class Were secular Jews A third Were national religious Jews They would never meet In any other context They met On our campus The program was To get the matriculation To get a good degree So you can get it To university That's the external part of it The process was not About being friends The core element Of both programs And others I do not have time To talk about Were this We realize That the spaces Are very separate That the consciousness Is very physical spaces Subjective consciousness The way To get To move forward In your self Understanding And understanding Of self Is to go through Processes together Not in order To change But in order To know yourself Better And if After three years As a teenager From 10th to 12th grade You went to a class Let's say If I'm a Jewish Man Boy Who went to a class With a Palestinian girl And I do not like Her politics And I have strong Resentment against The conflict And this girl Was smarter than me It doesn't It means First of all I have a boundary For how smart I am Second I realized That just like I'm very strongly Nationalistic She's very strongly Nationalistic And three Both of us Share dreams To do something Good with our lives And it does Which means That just as strong As my identity is She also has A strong identity So the process Of civic education For us Was first of all About identity To share A civic space Without changing Your cultural Religious Ethnic Gender Or other identity This was a principle I'll give An example Part of this Program Was based on Tours And going out Of the class First of all Just for Teenagers in Jerusalem To meet To sit For three years In a class For a Jew With Arabs For Arabs With Jews It's impossible It doesn't happen Apart from one school Doesn't happen So that in itself Is like Once a week Going to a different Land In terms of Your consciousness But since Our strategy Our vision Was not to Impose Liberal values But to enable Self-discovery And respect For other people Who are also Self-discovering Their identities We did a lot Of outside Classroom Excursions I want to tell You about One That One excursion In the south Of Israel Some of you Who follow the news Know that There's the Gaza Strip You've heard about that I assume Somebody could do Like this And I'll know You know Gaza War Rockets 20 km from the Gaza Strip North of the Gaza Strip Is a temporary settlement Of Jews Who were evacuated From the Gaza Strip When Israel went out And they live there Temporarily They're mostly Religious and nationalist 20 km from that You have an Israeli town At the time Bombarded on a daily basis By Kassam rockets From Gaza 20 km from there Which is only 60 km We have Bedouins Who live in Unrecognized settlements You put into a bus All those teachers I was talking about That's the MA program The kids From the schools It's a bus With around 40 people A two day trip Where you go to Evacuated nationalist settlers You go to Bombarded Jewish settlement And you go to Bedouins Who live In unrecognized town We had a program With them It's a different story After two days You get a silent bus Because when you Encounter suffering And you do it In a safe place And nobody asks you To change your opinion You see settlers Whose dreams Are gone You see Israeli Jews Who are resentful Of everything Because they're Bombarded every day You see Bedouin Israelis Who say that The state Has forgotten them For two days You see three different Political agendas All of them Forgotten and forsaken By the state The people Who come out Of that bus May continue to think What they think About the politics But something opens up In terms of their Understanding Of suffering That comes from Absence Of shared Civic space That is the basis For diversity In the political field In Israel The politics are very strong The civics are very weak So if I summarize The 15 minutes That we decided To talk about The point I want to I came here To talk about Is that first of all Change comes from Personal experience Myself included When you know That something is wrong In the way that you were raised Or that your children Were raised And you want to change it Then be smart About understanding What was wrong there For me what was wrong Is that I never met A Palestinian Arab And that I had strong Resentment against Orthodox Jewry Because of different Parts of my experience So I didn't meet with them I enjoyed I come from a privileged Background in that respect I come from a secular Established Jewish Part of Israel But if I live In my own niche The space starts Getting the contours Of different privileges With nothing shared Number two If you want to work Within institutions You need to have Smart strategy With resources That are not dependent On established authority Otherwise established authority Determines the process And three If you want to Change civic consciousness I think it has to be Through process Not through preaching Through enabling Shared experience Without trying to change The content of the mind For me consciousness Is subjective It's not content It's feeling It's sensation And it's the things That happen When you interact With people Who are just As strong-willed And determined As you To take care of themselves Thank you very much Massimo Santanicchia Iceland University of the Arts Ok, buon pomeriggio A tutti quanti Mi chiamo Massimo Santanicchia Sono architetto E direttore Del programma di architettura All'Università Delle arti islandesi A Reykjavik Vorrei ringraziare Prima di tutto Il magnifico rettore Vorrei ringraziare Gianni Sinni Vorrei ringraziare Tutti gli studenti Tecnici Che hanno reso Possibile questo evento Quindi l'Università di San Marino E in particolare Massimo Brignoni Per aver creato Questo contatto Quindi vi ringrazio Davvero molto Vorrei partire Dicendo che La mia scuola Dove insegno In Islanda E la facoltà di design All'Università di San Marino Hanno qualcosa in comune Sono state entrambe create Nel 2005 Quindi sono università Molto giovani Sono anche università Di piccoli paesi In Islanda Siamo appena 340.000 In un territorio Che pari a un terzo Di quello italiano Ogni anno Accogliamo 14 studenti In architettura E abbiamo anche studenti In design In product design In fashion In visual communication E in totale Abbiamo circa 50 studenti Che ogni anno Sono immatricolati Nella nostra università Vorrei spiegarvi Come lavoriamo In Islanda E come Collaboriamo assieme Vorrei farlo Iniziando A raccontarvi Due fatti Particolari Che hanno Praticamente Formato Il nostro Morio Di insegnare In Islanda Il primo E quindi Hanno influenzato I nostri Curricula Universitari Uno di questi Ci ha toccato Molto da vicino Quindi ha un carattere Più locale Mentre l'altro Ha un carattere Più globale Quindi il primo È legato Alla crisi economica Del 2008 La crisi islandese Quindi Praticamente Dieci anni fa E questo Ha tenuto Il paese In sospeso Per diversi anni Quindi sono stati Anni molto Anche molto difficili Molto particolari In Islanda Sono stati anni In cui Non vi è stata Alcuna produzione Edilizia E sono stati anni In cui Molte persone Hanno pensato Che l'architettura Fosse morta O scomparsa Ma in realtà Era viva Era viva Sotto forme diverse Sotto forme di partecipazione Diversa E questo era molto È stato molto importante Fare esperienza Di tutto ciò E il secondo fatto Invece È un fatto A carattere Globale Ed è praticamente La consapevolezza Che non esiste più Una fuga O una via d'uscita Dal nostro pianeta Ma che qualunque cosa Noi facciamo Influenza non solo La nostra realtà Ma anche La realtà locale Ma anche quella Di luoghi Molto distanti Tra di noi L'anno passato Leggevo un articolo In The Guardian Il quotidiano inglese Che riportava Il fatto Di un'isola Nel Pacifico del Sud Che si chiama Anderson Island Che appartiene Alle Pitcairn's E in quest'isola Lontanissimo Da tutti quanti Il posto Abitato più vicino È a 6.000 km Di distanza Ebbene Nelle spiagge Di questa isola Sono stati trovati 18 milioni Di tonnellate Di plastica Ed è praticamente La più alta concentrazione Di detriti umani Al mondo Detto ciò Credo che Siamo tutti responsabili Perché poi Analizzando Questa plastica Questi 18 milioni Di tonnellate La plastica Avviene davvero Da ovunque Dalla Germania Dalla Danimarca Dal Canada Dal Cile Dall'Australia E quindi Questo ci rende In qualche modo Copartecipi O colpevoli In tutto ciò Però Detto questo Credo Nell'istruzione Credo Nell'istruzione Possa cambiare il mondo Ampliare le nostre conoscenze Rimuovere le sofferenze Formare nuovi atteggiamenti Nuovi linguaggi comuni Quindi All'Università Islandese delle Arti L'architettura Ma possiamo anche sostituire La parola architettura Con design Non credo che cambi molto Entesa in ogni caso Come un'arte Come una scienza E la saggezza Nel compiere le decisioni Avendo la consapevolezza Che ad ogni scelta Corrisponde un impatto Una conseguenza Che può cambiare E incidere Non solo la nostra realtà Ma anche quella di paesi Molto distanti dai nostri Vedi appunto Anderson Island Quindi gli architetti Ed educatori In architettura Devono sviluppare La consapevolezza E la lungimiranza Nel capire come le scelte Legate al progetto Incidono e influenzano L'ambiente comune E anche Dobbiamo riconoscere Che la teoria di Gaia Ci insegna Che la natura O meglio Le nature Operano come molteplici Sistemi O ecosistemi Che sono connessi E autoorganizzati E al tempo stesso Ci informa Che le risorse Del nostro pianeta Sono limitate E come tali Quindi il pensiero Estrazionista Capitalista Dello sviluppo Illimitato Non ha In realtà Alcun senso Quindi io intendo Il mio compito Di educatore Come quello Di Da un lato Di invigorire La creatività Degli studenti Di sensibilizzarli Di ragionare Assieme a loro Di riconoscere Le loro diversità Ma anche Lavorare Per sviluppare Le responsabilità Sociali E civiche Ambientali Che devono essere Di nostra competenza E credo anche Che l'istruzione Sia una prassi sociale Quindi educare Deriva dal latino Exducere Che significa Condurre L'educazione È fondamentale Per la democrazia È l'educazione Fondamentale Per la nostra Sopravvivenza Nessuna società Può resistere O rimanere in vita Senza la condivisione Del sapere E senza prendersi cura Di come questo sapere Possa essere trasmesso Alle generazioni Future E questa trasmissione Richiede la presenza Poi di una rete sociale Forte Appropriata E le appropriate Condizioni Che supportino Le istruzioni Quindi le giuste Pedagogie Che ci permettono Di formare Non solo esperti Tecnici Ma anche Cittadini Responsabili Persone dal forte Senso civico Desiderose Di essere attive Nel pensare E nel riparare I molteplici Problemi Sociali Ambientali Che sono stati Creati da noi Che sono in realtà Stati disegnati Da noi Sono un byproduct Del nostro design Tra tutti Il cambiamento climatico Non è un fatto Slegato Dalla nostra volontà Quindi essere cittadini Significa combattere Prima di tutto L'immobilismo Mai prima di oggi Credo che siamo Così informati Al mondo Mai prima di oggi Abbiamo accesso A fatti Notizie Saperi Ma al tempo stesso Molti di noi Rimangono indifferenti Di fronte a tutto ciò Il nostro amico Maurizio Viroli Ci ricordava Che non siamo Sufficientemente Sdegnati Quando ci troviamo Di fronte A queste situazioni Quindi abbiamo bisogno Di una pedagogia Del design Che non solo Costribuisca A creare Una maggiore Consapevolezza Nella condizione umana Ma nel tempo stesso Ci aiuti A creare un impulso Per promuovere Attività Di partecipazione Quindi istruire Non è solo Formare nuove idee Ma anche infondere Il coraggio Nel portarle avanti Nel trasformarle In realtà Al di fuori dell'aula E oltre L'università Quindi il ruolo Dell'architetto Il ruolo Del designer Non è solo Quello di progettare Edifici O cose Ma è anche Quello di formare Il nostro Umwelt Il nostro Ambiente Il nostro senso Civico La consapevolezza Civica Che appartiene Adesso E gli designer Devono anche Creare le condizioni Possibili Per far sì Che le giuste Politiche A supporto Del design E del progetto Siano poi Formate Quindi non è solamente Il compito Di produrre Un qualcosa Ma anche Di formare La politica Attorno ad esso L'architettura E di nuovo Anche il design Non è solo Una scienza Un'arte Spaziale Ma soprattutto Sociale Che è sempre Creata in un contesto Specifico Situato economicamente Culturalmente Politicamente E ambientalmente E ambientalmente E questa consapevolezza Contribuisce All'espandere Il significato Del design E dell'architettura E quindi Non siamo solamente Architetti Ma siamo anche Cittadini E politici E politici Al tempo stesso Ma per essere tali Dobbiamo Saper dialogare Con il mondo Dobbiamo confrontarci Con le diversità Del mondo Dobbiamo mettere In dubbio Gli stereotipi E dobbiamo includere Voci diverse Nel nostro lavoro Questo credo Che si avvicini Molto A quello che Dan Il lavoro di Dan A Gerusalemme Di confrontarci Praticamente Con ciò che è diverso Da noi Perché pedagogia Fondamentalmente È basata Sulle persone Sulle relazioni Con le persone Quindi è una pedagogia Critica È un processo Che favorisce Insegnanti E studenti Nel lavorare insieme Ma anche di Di porre Delle domande Delle domande Comune Quindi Quindi l'università Deve essere il luogo In cui noi impariamo Come imparare In modo che possiamo Continuare a imparare Per il resto Delle nostre vite E imparare È sempre un processo Sociale E secondo me Questo processo sociale Inizia portando All'interno della classe Le nostre esperienze Umane I nostri fatti E opinioni Quindi la classe Diventa prima di tutto Comunità La cui capacità Nel generare idee E attività È direttamente collegata Al nostro reciproco Interesse Se non abbiamo interesse Nel confrontarci Nel dialogare Se non c'è questa curiosità Nell'ascoltarci E nel rispettare Le nostre diverse storie Non possiamo In realtà educare Non possiamo Far comunità Gli studenti Nel mettere in evidenza Nel mettere in evidenza Nel mettere in evidenza Nel mettere in evidenza Il dolore O con i miei studenti Utilizziamo la parola The pain Cioè situazioni Che noi tutti Possiamo capire Quali gli sprechi La povertà Le violazioni Diritti umani E quindi La ricerca Del design Inizia in realtà Lontano dal design Ma inizia Da situazioni Che noi viviamo Quotidianamente Quindi studiare Design Significa anche Avere cura Del mondo Delle persone Del mondo Delle risorse Con la consapevolezza Che i problemi Del mondo Non si possono Poi dividere Nel modo In cui Le facoltà O dipartimenti Universitari Sono divisi Ma i problemi Diventano Universali E quindi Richiedono La nostra collaborazione Comune Quindi capire E sapere Sono fondamentali Ma non bastano Per superare L'immobilismo Dobbiamo sentirci Parte dello stesso Problema Susan Tang Nel suo ultimo libro Parla Il suo ultimo libro Chiamato Reading the pain of others Cioè leggere il dolore Degli altri Sostiene che Se vogliamo sviluppare Una vera empatia E genuina compassione Abbiamo bisogno Non solo di conoscenza Ma di azione Quindi L'architettura È fatta Non solo Ovviamente Di modelli E di disegni Questi sono semplicemente Gli strumenti Di rappresentazione L'architettura Non è mai Una questione privata Ma è sempre Ha sempre Conseguenze pubbliche I cui effetti Possono Farsi sentire Molto lontano L'architettura Richiede di Connetterci con il mondo Con l'ecosistema Con le sue diversità E insegnare Significa fondamentalmente Stare con le persone E questo senso civico Deve essere poi Il fondamento Dell'istruzione Io credo Io credo che gli studenti Devono essere In realtà Esposti il più possibile Alle diversità Ai dolori A the pains Nel mondo E non devono essere Protetti Né schermati Da questo Quindi Di nuovo Trovo molti punti In comune Con la nostra Pedagogia islandese Con il lavoro Che sta facendo Dan A Gerusalemme Anche se ovviamente Il contesto È completamente diverso Quindi nella nostra Piccolissima scuola islandese I nostri studenti Di architettura Collaborano Con gli altri studenti Indipendentemente Dalle discipline Collaborano Con gli insegnanti Tutti quanti Indipendentemente Dalle discipline E collaborano Soprattutto Questo è l'aspetto Molto importante Con persone All'esterno Della scuola E sono incoraggiati A pensare Alle conseguenze Delle proprie scelte E al dialogare Con persone Che sono profondamente Diverse da loro Quindi l'istruzione Diventa consapevolezza E saggezza Non solo Non solo Accumulo di conoscenze È sviluppo Dell'intelligenza emotiva Empatia E delle capacità sociali E di design Che ci servono poi Per affrontare Diverse situazioni Concludo Concludo dicendo Che in base Alla mia esperienza Personale Io ho imparato Dai miei studenti Che importante Piattaforme di dialogo Avvengono Quando gli studenti Lavorano su argomenti Importanti E li sviluppano Attraverso i loro progetti In questo modo I confini Tra le diverse discipline Evaporano Ma per annullare Questi confini Gli studenti Devono veramente Sentirsi responsabili E devono capire Che quello Che stanno facendo Non è semplicemente Un esercizio Accademico Ma è un progetto Che tocca Influenza Influenza E se riusciamo E se riusciamo A includere Diverse persone In questo processo Grazie a tutti Daniela Piscitelli Università degli studi Nonostante Nonostante Come dire La settimana impegnativa Mi sembra Che siano Come dire Ancora tutti Qui Attivi E desiderosi Di Saperne Sempre di più Devo dire Che il mio intervento Si aggancia In maniera Molto Naturale All'intervento Che mi ha appena Preceduto Perché abbiamo Sentito parlare Di responsabilità Da parte Dei progettisti E di consapevolezza Nell'affrontare Alcuni aspetti Del progetto Io non vi parlerò Dei progetti Che faccio Nella mia università Anche se alla fine Farò qualche breve Accenno Ma invece Con Gianni Appunto Pensavamo Che i temi Che sono stati Affrontati Soltanto Qualche mese fa Durante Il Montreal Design Summit Appunto Canadese A Montreal E alla firma Della Montreal Design Declaration Sul Appunto Sul design Potessero essere Effettivamente Come dire Pertinenti Ai temi Di questa settimana Anzi Dirò di più I temi Di questa settimana Il tema centrale Di questa settimana Dovrebbe essere Uno dei punti Da inserire Nell'agenda Che poi vedremo La Montreal Design Declaration Ha strutturato Di che cosa Stiamo parlando Stiamo parlando Di una Di un manifesto Che è stato Appunto Definito Una drammatica Call to action E Perché è una drammatica Call to action Perché si richiama L'attenzione Di tutta la comunità Dei progettisti Dei designer A non solo Teorizzare E parlare Di una serie Di tematiche In ambito Globale Internazionale Che interessano Tutti Ma a mettere In piedi Una vera e propria Agenda Del fare Dove La comunità Del design Non parla Solo All'interno Di se stessa Nel proprio Piccolo mondo Ma viceversa Colloquia Con i governi E Questo È il primo Comitato Direttivo Dove vedete Ci sono una serie Di organismi Internazionali Cumulus Fa parte Dello Staring Committee Ma di fatto Questo documento È stato firmato Anche da Appunto Organismi Internazionali Quali per esempio L'UNESCO Che ne ha abbracciato La filosofia Ma soprattutto Il programma Di azioni Perché Appunto Questo non vuole essere Solo un manifesto Ma vuole essere Una vera e propria Agenda programmatica Per fare Delle cose Non da designer E per i designer Ma da designer E con i governi E per i governi Il primo gruppo Che ha lavorato È costituito Da queste 14 Entità Io vado un po' veloce Poi ovviamente Chi avrà desiderio Di andarsela a leggere È online E può appunto Approfondire Di fatto Si è parlato Di un sistema Che ha visto Circa 700 Tra associazioni Università Ed enti Che si occupano Di design In tutto il mondo Quando parlo Di tutto il mondo Parlo anche Dei paesi più poveri Quindi il mondo Non è solo Il mondo occidentale Che come dire Ha un approccio Al design Di un certo tipo Ma parliamo Di tutto il mondo Quindi anche I paesi più poveri Nei quali comunque Le metodologie Le metodologie Le pratiche Del design Possono Effettivamente Realmente Modificare Il proprio Stato Quotidiano Quindi parliamo Di circa 700 Tra associazioni Università Ed enti Circa 89 paesi Per un totale Di una rappresentanza Di circa 6 milioni Di persone Perché dico Persone E non designer Perché parliamo Di designer Ma parliamo Anche di studenti Parliamo anche Di docenti Universitari Parliamo di tutto Quell'indotto Che di fatto Intorno al design Costituisce Una Come dire Massa critica Realmente Capace Di poter Incidere Sulle pratiche E Sulle Modificazioni Del mondo La dichiarazione Quindi Che cosa Ha inteso Ha inteso Esprimere Soprattutto Prima di tutto Una visione Condivisa Fondata Sul principio Noi siamo italiani Veniamo dalla lezione Di Albe Steiner Sul significato Profondo Legato Alla responsabilità Civile Del progettista E al ruolo Fondamentale Che il design Può avere Proprio Nell'incidere Sui processi Di cambiamento Del mondo Senza Dimenticarsi Alcune cose Che forse Scusatemi Se ripeto Sempre la parola Occidentali Ma lavorando Sempre con L'India E con i paesi Emergenti Devo dire Che l'arroganza Del design Occidentale Spesso emerge Quindi Rispettosi Della diversità Dei contesti Il valore Delle tradizioni E delle conoscenze Locali Per poter garantire Una vita dignitosa A tutti La dichiarazione Non vuole essere Una riserva Protetta Per una riserva Protetta Di persone Ma vuole invece Rappresentare Una risorsa E diciamo I punti Sono moltissimi Io ho cercato Soltanto di Sottolinearne Alcuni Più importanti Parliamo Per esempio Del ruolo fondamentale Eclitico Del design Per creare Un sistema ecologico Sostenibile E parliamo Appunto Diciamo La volontà Di confermare Quello che viene Definito Il valore Del lavoro Collaborativo E della progettazione Per il bene comune Sono parole Ricorrenti Negli ultimi anni Sono parole Che sicuramente In questa settimana Abbiamo sentito E avrete sentito Più volte Queste parole Come diceva pure Prima Il relatore Che mi ha preceduto Però Devono poter diventare Delle azioni Concrete Quindi non soltanto Delle buone Intenzioni Ma delle azioni Abbiamo elencato All'interno Della dichiarazione Otto valori Principali Del design Io ne ho sottolineato Uno in particolare Il design Diventa strumento Di cambiamento E Come dicevo prima Non soltanto Un proclama Di buone intenzioni Ma una vera e propria Call to action Le aree di intervento Che sono state Definite all'interno Della dichiarazione Sono nove Anche qui Ne ho sottolineate tre Quindi un design Reattivo Un design responsabile E un design Vigile Inclusivo Delle diversità Sociali Culturali Ed etniche Gli obiettivi Sono stati individuati Cinque obiettivi Principali Quindi Collaborare Con le organizzazioni Con degli obiettivi Condivisi Sviluppare Un'agenda mondiale Del design Ispirare i designer A diventare Ambasciatori Di nuove Di Diciamo Best practice Io non amo questa parola Best practice Perché non è una best practice È un mindset È un approccio Culturale Responsabile Quindi non solo al servizio Della produzione Ma al servizio Invece Di noi stessi Dell'utente finale E quindi appunto Sviluppare Meccanismi necessari Per garantire La continuazione Di un processo Avviato Con questa dichiarazione La dichiarazione Non è un manifesto Chiuso È un documento Che ha degli obiettivi A lungo termine Soprattutto Con l'agenda Horizon 2020 E con il proclama Delle Nazioni Unite 2030 Quindi un documento Aperto Dove poter Inserire Tutta una serie Di tavoli di lavoro E di focus Nel quale Poter Appunto Lavorare Per dare al design Una voce Efficace E unita Cioè il mondo Del design Può sembrare ingenuo Probabilmente Non lo è Visto che questa dichiarazione Ha mosso 6 milioni di persone Fare in modo Che ci siano Delle basi Comune Condivise Che possano Effettivamente Come dire Affrontare Tutta una serie Di criticità Che ci piaccia o meno Come dire Toccano Toccano tutti Quattro aree Di intervento principali Questa call for action Si Come dire Chiude Individuando Quattro aree Di intervento principali E 20 progetti Io non li ho elencati Tutti 20 progetti Ho elencato Solo quelli più Come dire Legati ai temi Di questa Settimana Ma di fatto Alla base C'è la necessità Di poter costruire Un dialogo Istituzionale Quindi non Localistico Non Come dire Artigianale Legato Agli entusiasmi Dei singoli Ma un legame Istituzionale Con i governi E con gli organismi Internazionali Perché le tematiche Globali Che abbiamo Sulla nostra scrivania Non rappresentano Solo il problema Del nostro Orticello Ma sono Invece Delle tematiche Estremamente Più Globali Appunto Quindi Questi sono Appunto I I vari I vari Punti L'ultimo È appunto Quello di creare Una causa Comune E costruire Un'agenda Del design Mondiale All'interno Della quale Fare Convogliare Gli sforzi Invece Delle entità Locali La dichiarazione Si chiude Con questo Come dire Proclama Io Come dire Ho avuto il piacere Di poterla presentare qui Perché ritengo Che il tema Che è stato affrontato All'interno di questa settimana Sia uno dei temi Che in maniera latente Compare All'interno di questa dichiarazione E che invece Potrebbe diventare Uno dei focus Sul quale Poter Lavorare Agganciata A questa dichiarazione E forse anche un po' In seguito Di questa dichiarazione Tutta una serie di corsi Che noi facciamo E questo per dirvi Come poi Tutto questo Può essere riportato Dal grande Al piccolino Del nostro piccolo Fare quotidiano Diventano Dei progetti Concreti E infatti Sia con L'Università Della Campania Ma anche Con tanti progetti Che io seguo Per lo UAB Di Venezia Abbiamo innescato Processi di collaborazione Sia con l'Africa Che con l'India Proprio per lavorare Su questi temi I temi Della differenza Di genere I temi Dell'istruzione Imposti Nei quali Non c'è nessuna Possibilità Di portare Alcuna scuola Quindi Sono temi Che poi diventano Se affrontati All'interno Di un istituto Universitario Con la volontà Di volerli rendere Delle possibilità Concrete Sono temi Possibili Vi ringrazio Jonathan Pierini Isia Urbino Buon pomeriggio a tutti Volevo anche io Unirmi ai Ringraziamenti Ringraziare quindi Il Rettore Universitario San Marino Gianni Sinni Michele Zannoni Maurizio Viroli Per aver organizzato Questo evento Quest'occasione Di confronto Che ho colto Subito con piacere Perché riguarda Un tema Che è molto Mi è molto vicino Mi è molto vicino Per due questioni Principalmente Perché appunto Intercetta Alcuni ambiti Del mio lavoro Della mia pratica Come progettista E come docente Anche di design E soprattutto Anche perché È un tema caro All'Isia di Urbino Una scuola Che ho frequentato Che ho da poco Da settembre L'onore di dirigere È una scuola Che ha una grande tradizione Nella comunicazione Visiva Oriettata All'utente Inteso come cittadino Innanzitutto Più che come consumatore Quindi come parte Di una rete di relazioni Di tipo sociale E anche politico Possiamo dire Storicamente L'Isia è stato Uno dei luoghi Che ha contribuito A quella grafica Di pubblica utilità Che è ormai Considerata Una parte inscindibile Della storia Del progetto Grafico italiano Una parte fondativa Precursore è stato Come ricordava Prima di me Daniela Piscitelli Albe Steiner Sia sul piano teorico Con la formulazione Della figura Del progettista grafico Inteso come Figura tecnica E intellettuale Al tempo stesso Sia sul piano pratico E ricordiamo brevemente Il progetto Della grafica Per la città Realizzato con gli studenti Dell'Oxag L'attuale Isia Nell'anno accademico 68-69 Con l'insegnamento Poi di Dolcini La scuola Ha anche contribuito Al movimento Della grafica Di pubblica utilità Che si è sviluppato A partire dagli anni 70 Con alcune esperienze In realtà Già nella fine Del decennio precedente Specie in città Di provincia Ma non solo E ricordo ovviamente Il lavoro anche Di Gianni a Firenze In questa occasione Grazie alla concomitanza Di alcune condizioni Innanzitutto La progressiva Acquisizione di autonomia Da parte delle province Dei comuni Degli enti territoriali Che si ritrovano A far fronte Alla necessità Di programmare Azioni di tipo sociale E culturale Che erano prima Gestite in modo centralizzato Una seconda condizione È quella Di un contesto Di grande partecipazione Dei singoli E di un associazionismo Alla vita pubblica Marcato Che oggi Insomma È ben carente E poi c'è Un'altra condizione La terza Quella di un progressivo sviluppo E l'affermazione Delle discipline Del design Tra cui La progettazione grafica Che andavano Formalizzandosi Si è parlato molto Di questa grafica Di pubblica utilità E a mio avviso Muovendo Insomma Con uno sguardo distante Una piccola critica Si a volte Corso il rischio Di una trattazione Che Potesse essere Celebrativa O ideologica Che ha cristallizzato In qualche modo Queste esperienze In un ricordo Per noi oggi Che è inaccessibile O comunque Confiderato Inripetibile In questo modo La grafica utile Corre il rischio Di diventare Per noi oggi Inutile Di non coglierne Tutte le potenzialità Se non quella Di andare a costituire Un mito fondativo Del progetto Di comunicazione italiano E invece Credo che Quella della grafica Di pubblica utilità Sia una definizione Ricca di conseguenze Per noi oggi E la ricchezza Di questa definizione Sta proprio Nella sua Difficoltà In qualche misura Se consideriamo I protagonisti Di quella stagione Ci accorgiamo Della grande Eterogeneità Dei linguaggi Utilizzati Da ciascuno Se osserviamo Gli output Vediamo che Questi spaziano Da sistemi Di segnaletica A poster Di sensibilizzazione Sociale O politica Se ci atteniamo Al committente A parte una prima fase Di commissione Puramente pubblica Già a partire Dagli anni 80 Troviamo una commissione Di pubblico E privato Che oggi la regola E che anzi Perseguiamo Anche Nelle nostre università A mio avviso È proprio Questa difficoltà Di una definizione Univoca Alla forza Di questa esperienza Che ci costringe A ripensare Il suo significato In relazione A dei contesti Che cambiano All'oggi Già nell'85 Qualcuno si chiedeva Cosa restasse Di questa stagione E potremmo essere Drastici Dire tutto O niente A seconda Di cosa cerchiamo In essa Di come la interroghiamo Una soluzione Semplice Potrebbe essere Quella Di intenderla Come un etos Una sorta Di atteggiamento Al progetto Ma questo Rimanda Alle intenzioni Interiori Del progettista Difficili da indagare Che si esprimono In potenza Indipendentemente Dalla loro attuazione Delle condizioni Materiali Che le esplicano Oppure Possiamo vedere Questa grafica Come una tipologia Del discorso Del design Un atto di scrittura Definito da sequenze E segni Per dirla con Foucault La dimensione Del discorso Ci permette Innanzitutto Di uscire A mio avviso Da una contrapposizione Sterile Che ha visto Per molto tempo Il progetto Di comunicazione Inteso O come servizio Il più possibile Oggettivo Imperfonale Neutrale O come Una dichiarazione Autoriale Di espressione Del sé Recupera Recupera Il discorso Prende forma L'audience Che riceve Questo discorso E lo interpreta Ma nel design Per una consapevolezza Civica Che caratteristiche Hanno questi termini Del discorso Io credo Che la caratteristica Principale Sia quella Di non essere Fissati Ma di essere Esistenti L'oggetto D'indagine Il tema Del discorso Senza rimanere Necessariamente Intrappolati Nel metaprogetto O meglio Dopo il metaprogetto Il discorso Per una consapevolezza Civica Riguarda Allo Ftefotempo Il tema E le modalità Di costruzione Del senso Scopre in qualche modo Il telaio Della struttura Discorsiva E lo moftra Invitandoci A prendere parte Alla converfazione A partecipare Oggi però Il problema Non è soltanto Quello di stimolare La partecipazione Infatti Se la intendiamo Come espressione Del proprio punto di vista Questa Questa partecipazione Forse non è mai stata Così alta Come oggi Il punto è Provocare L'incontro O lo scontro Tra posizioni Tra punti di vista Boris Groys Dice che oggi Il privato È immediatamente pubblico È subito condiviso Dato In una In una dimensione Collettiva Ma la dimensione pubblica Per come l'abbiamo Sempre concepita È venuta meno In quanto Le singole posizioni Non sono mediate Ed è proprio Nella preparazione Di un terreno comune Inteso come luogo Di confronto Che credo Il design Il progetto Di comunicazione In particolare Poffa intervenire Poffa tornare utile Per dirla Con l'architetto tedesco Marcus Missen La partecipazione Oggi è un vero e proprio incubo La viviamo continuamente Quasi non possiamo uscirne Eppure È una conduzione Non più produttiva Non più utile Il singolo Il singolo Il singolo atto di scrittura Il singolo progetto Il singolo discorso Contribuisce A sua volta A informare Un discorso superiore Inteso come il risultato Di una serie determinata Di enunciati Che vanno a definire Un ambito Della cultura Una serie di temi Dei modi Di trattarli Dei punti di vista Più o meno Condificati Condivisi Più o meno Istituzionalizzati Si tratta quindi Di come il singolo enunciato Riesce a mediare Tra più posizioni Mirando non A una risoluzione Ma al mantenimento Costante Della conversazione Come possiamo tradurre Questo in termini pratici Ci sono sicuramente Molti modi E io posso Parlare di questa cosa Ovviamente Dalla mia esperienza personale Dal mio punto di vista Particolare Nel mio corso Presso l'ISIA Lavoro da qualche anno Allo sviluppo Di questi concetti In una pratica Di pubblicazione Intesa in senso Molto ampio Che include Processi Strumenti diversi Piattaforme Diverse Non si parla più Foltanto di libri Quindi Ma del pubblicare In sé Come azione Di condivisione In questo contesto Cerchiamo Insieme agli studenti Progetto dopo progetto Di problematizzare I termini Della discorsività Quelli che abbiamo Trattato prima Cerchiamo di mediare Tra gli enunciati Di singoli Gruppi Comunità Istituzioni Di utilizzare Supporti Strumenti fisici E digitali In modo complementare Muovendosi In un ambiente Che ormai Definiamo POV digitale Progettiamo Modalità Di ricerca E produzione Dei contenuti Nonché Di produzione Degli elaborati Che sono aperte Non autoriali E infine Facciamo riferimento A questioni Di rilevanza Locale E territoriale E territoriale E territoriale Cercando però Sempre di giocarle Su un piano Generale La cui Rilevanza Eccede Sicuramente Il territorio Fin dall'introduzione Dei caratteri Mobili Il libro Ha costituito Uno spazio Comune Uguale Ovunque Indipendentemente Dal soggetto Trasportabile Spedibile Oggi Le cose Si complicano Sicuramente Ma il progetto Editoriale Preferisco Parlare Di pubblicare Resta una risorsa Enorme Incredibile A patto di Riconoscere E esplorare Le sue potenzialità In quanto Pratica Mediata Di produzione Di senso Pubblicare Significa infatti Molte cose Può essere Un'azione Spontanea Così come Un processo Professionale Articolato E standardizzato Pubblicare Sia un gesto Che un processo Può essere Un evento Puntuale Ma può essere Anche il progetto Intimo Di una vita Una cosa Però Rimane Comunque sicura Ed è quella Che pubblicare Significa occupare Uno spazio Sia esso Fisico O digitale Quindi Prendere una posizione Rispetto agli altri Che poi Non è troppo diverso Da quello Che è sempre Significato scrivere Occupare uno spazio E metterci in gioco Grazie Raffaella Fagnoni Università degli Studi Di Genova Salve Buonasera Visto che parlo Dopo Jonathan Dico anche Volentieri Che oltre che All'Università Di Genova Insegno Anche all'ISIA Di Firenze Mi sento parte Anche di Questa comunità E comunque Penso che In questa dimensione Tutte le comunità Si riuniscano Prima di tutto Anche io vorrei dire Che sono davvero Felice Di essere qua Perché questo progetto Mi sembra un bellissimo progetto E me lo sento Molto calato addosso E quello di cui parlo Rapidamente Ho preparato appunto Tantissime immagini Che scollerò veloci A creare appunto Una sorta di panoramica Un paesaggio Delle cose che facciamo Ogni giorno Perché alla fine Questa responsabilità E questa consapevolezza Questo senso civico Viene fuori dal nostro quotidiano Nel nostro quotidiano Ed è fatto Dalle piccole azioni E dalle piccole cose Che facciamo ogni giorno Con il nostro lavoro Avrei anche potuto Chiamarlo Action mood Perché? Perché in queste piccole cose Si crea un'atmosfera Si crea Cioè col fare Con questa dimensione Del fare Che ricordava prima Daniela Si crea Dovrei bere un po' d'acqua Si crea Un'atmosfera particolare Ed è lì Che viene fuori Questa responsabilità civica Qua ho messo Alcune delle copertine Dei libri Su cui abbiamo scritto Su cui siamo stati invitati A scrivere Perché danno un po' un'idea Dei temi che trattiamo Premesso appunto Che in particolare Genova È una realtà Abbastanza particolare Perché è una città Dove non c'è La consapevolezza Del design E mentre Per esempio appunto Chi vive a Milano Chiunque Dal panettiere O così O addirittura In Finlandia Se si va In questi paesi del nord Anche la donnina Che scrive Il prezzo sul mercato Usa una composizione grafica A Genova Proprio È arabo Cioè è una città Dove ci sono veramente Tantissimi problemi reali Ci sono difficoltà Ci sono cose Per cui Quello che noi dobbiamo fare È diciamo Farci conoscere Uscire E quindi Questa dimensione Del fare È inevitabile Uno dei progetti Che abbiamo fatto Proprio In uno di questi libri È questo progetto Reagento E cioè di andare A cercare I reagenti Perché comunque Sotto la cenere Diciamo Ci sono i reagenti Anche a Genova E sono appunto Le persone Che fanno cose Per cui Come scritto Nel retro di copertina Reagente È un Catalizzatore Per cittadini Di avanguardia Un progetto Per sperimentare L'opportunità Del design Fra politica E cittadinanza Praticamente È un po' questo Il concetto Cioè di Utilizzare Le competenze Gli strumenti Del design Per far sì Che queste persone Che fanno cose Possano riuscire Nei loro progetti Chi fa una cosa E chi fa un'altra Mettendo E coinvolgendo Anche cittadini Le amministrazioni E quant'altro E siccome Spesso e volentieri Queste persone Sono dei volontari Sono dei militanti Che non hanno spazio La nostra idea È stata quella Di mettere insieme Gli spazi abbandonati O sottutilizzati Della città E trovare un modo E facilitare Che queste persone Potessero esercitare La loro attività In questi luoghi Quindi Ecco perché Reagenti Ecco perché Questo processo Portato avanti Dal comune Quindi appunto Che cosa abbiamo detto Facciamo un marchio Una sorta di certificazione Di qualità Che si possa dare E applicare A questo tipo Di azioni A questo tipo Di attività Proprio per facilitare Il processo Di assegnazione Degli spazi E di riconoscibilità Delle attività Che questi gruppi fanno Che sono gruppi Eterogenei Perché c'è magari Quelli che lavorano Che ne so Con i malati di Alzheimer E quelli che fanno Il 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 Fab lab Nato all'interno Del centro sociale Dove però Comunque fanno Stampare le persone Portando solo La bobina E non magari Facendo pagare Una stampa A 200 euro Come invece Molti altri fanno Per fare business C'è di tutto E di più Ci sono gli anziani Ci sono Quelli che fanno Gli orchi E quant'altro Chiaramente Abbiamo fatto questo Con Dal basso Perché un processo Del genere Non può Venire dall'alto Ma deve essere Fatto dal basso E quindi mettendo insieme In una rete Le persone Qua ci sono Un po' Delle immagini Del percorso Che abbiamo fatto E del lavoro E degli incontri Fatti appunto Con i cittadini Sempre luoghi diversi Della città Perché Genova È una città lunga 45 chilometri E da una parte All'altra Ci sono le differenze Non come a Gerusalemme Perché non è questa L'intensità Però anche lì Da una parte All'altra Ci sono Molte difficoltà E quindi ecco Questo è un po' Uno dei temi principali E che ci ha portato A conoscere E a farci conoscere Un po' Con tutto questo mondo In realtà Lavoravamo già dapprima Quello che dico sempre Agli studenti Non è che il design È cambiato Perché il design Almeno secondo me Non è cambiato Quello che è cambiato È il mondo Che gli sta intorno E quindi Appunto una cosa Uso molto i video Anche nelle lezioni Ora qui purtroppo Ho caricato il pdf I video non si vedono Però diciamo Che uso un po' Lo strumento dei video Questo è il trailer Come vedete Di Vacanze Romane Che ci racconta un po' La storia di quest'Italia Che riparte E appunto Audrey Hepburn Una donna Che attraverso Un oggetto di design Monta sulla Vespa E guida Un mezzo a due ruote Va al giro per un mondo E quindi è chiaro In quel momento Il problema era questo Di un'Italia che cresce E quindi di un design Che deve occuparsi Della produzione in serie E di fare cose Produrre prodotti Però Quello che abbiamo oggi È questo mondo qua Qui chiaramente Il video non si vede Ma ve lo potete vedere Magari Per conto vostro Trashed Per chi non lo conosce È un film Molto forte Con appunto Jeremy Irons Del 2012 Che fa vedere Con immagini Molto toccanti E molto forti Che viviamo Appunto Come diceva prima Il collega Dell'Islanda O anche qualcun altro Malattie E cose Derivate dalla plastica E come Ovviamente Siano i bambini Che risentono Che risentono Strumenti Per creare E innescare Questo tipo di relazioni E uscire per le strade Questo che cerchiamo A queste frasi Comportamenti E quindi Nel circolo Nel circolo della città Questo luogo I cittadini Che non erano mai potuti Entrare lì dentro E che finalmente Hanno potuto vedere Questo spazio Che è proprio centrale Nella città Stessa cosa In questa Che è un progetto Di tesi Su Che è stata Già fatta E discussa In cui è stato realizzato Appunto Un evento Per riaprire Una villa Che fa parte Di un circuito Di ville Chiuse Abbandonate E che invece È stato fatto Un progetto Con le azioni locali Per farla Riutilizzare Come spazio Per l'educazione Dei giovani In particolare Dei NIT Che sono tantissimi A Genova E sono i ragazzi Che non hanno Appunto Né lavoro Né studio E attraverso Questo progetto È stato Questo progetto È stata anche L'occasione Per capire E interpellare Le persone Con questo strumento Di questi occhiali Che consentono Uno sguardo Differente Appunto Di capire Quali erano I desiderata Delle persone Rispetto Alla destinazione Queste sono Le ultime immagini Del workshop Concluso L'altra settimana Con Rudy Baur Per dire Che comunque Tutto questo Senza l'entusiasmo Non può essere fatto Grazie Medardo Medardo Chiapponi Università UOV Di Venezia Buon pomeriggio Anch'io voglio Partire Ringraziando L'Università Di San Marino Gianni E cito solo lui Ma vorrei citare Tutti i nomi Di coloro Che hanno partecipato All'organizzazione Di questa iniziativa Ed è un ringraziamento Non formale Li ringrazio Perché hanno consentito A me E a tutti noi Di partecipare A una riflessione Collettiva Su un tema Di estrema Attualità E anche Astraendoci Un momento Dall'attualità Troppo Troppo Attuale Che stiamo Vivendo In Italia Siamo all'estero E quindi possiamo Consentirci Di riflettere Un po' più Serenamente Su questi Su questi Argomenti Io non Vi mostrerò Dei progetti Che facciamo Nella nostra Università Anche se I temi Di cui Voglio Parlarvi Brevemente Sono un po' Alla base Della filosofia Della formazione Che noi Attuiamo Nella nostra Università Iua di Venezia Nel testo Di presentazione Di questo Di questo Incontro Mi hanno Particolarmente Colpito Due parole Che sono Partecipazione E competenza E la loro Combinazione Credo che sia Di estrema Importanza E anzi Una definizione Se vogliamo Molto Semplificata Molto banale Ma piena Di conseguenze Operative Del termine Democrazia Credo Possa essere Precisamente Una partecipazione Competente Ai processi Decisionali Collettivi Ed è di questo Che vorrei Occuparmi Brevemente Qui oggi I processi Decisionali Collettivi Sono Sono Veramente Tanti Non dobbiamo Pensare Soltanto Alle elezioni In cui Esprimiamo Un voto E in cui Probabilmente La competenza È molto limitata Perché Quel voto Lo esprimiamo A partire Da campagne Elettorali In cui Tutto È Interessante Tranne Una partecipazione Competente Ma ci sono Moltissimi Altri Momenti Processi Decisionali Su questioni Molto più Limitate Che non Le elezioni Generali Ma comunque Di grande Importanza Di grande Rilevanza Collettiva Prendo ad esempio Il tema Delle decisioni Su questioni Ambientali Qui Anche Su problemi Ambientali Globali Come può essere Il cambiamento Climatico Come era Qualche tempo Fa Il buco Nell'ozono O la riduzione Dello Stratto Protettivo Di ozono L'effetto Serra Anche queste Tematiche Globali Passano Attraverso Una serie Di decisioni Che riguardano Aspetti Quotidiani Riguardano I nostri Modi di vita Riguardano Decisioni Che collettivamente Prendiamo Su Alcune Questioni Perché Per esempio Il buco Nell'ozono Provocato Dai famosi CFC Significava Eliminarli Intervenire Su Processi Di Refrigerazione Di Condizionamento Quindi Di intervenire Su Questioni Che riguardano La vita Quotidiana Di Noi tutti E La qualità Della vita Di Noi tutti Noi affrontiamo Normalmente Le questioni Ambientali Quando le vogliamo Affrontare Spesso Affidandoci Solo A delle Prescrizioni Normative Ed è Questo però Un modo Molto Limitato Che ha Naturalmente Importanza L'efficacia Ma Non Su Tutto Se non Altro Perché Le normative Si Riferiscono A un Preciso Territorio Di Competenza Amministrativa E i problemi ambientali Invece Travalicano Sempre I confini Amministrativi Quindi Non possono Essere Affrontati In questo Modo E Nei problemi Ambientali Si confrontano Anche Visioni Interessi Modi Di Vita Molto Differenziati E molto Distanti Anche A volte Per cui Il problema È Come si Fa A partecipare Da cittadini Consapevoli Informati Competenti Alle decisioni Che riguardano Queste Questioni In fondo Riguardano Il tema Della Competenza E degli Esperti Vorrei Citare Qui Un Libretto Della Metà Degli Anni Ottanta Di Robert Dahl Che era Democrazia O Tecnocrazia E si Riferiva In modo Specifico Alle Decisioni Sulle Armi Nucleari Chi È Legittimato E Competente A Decidere Sul Problema Del nucleare In quel momento I più Anziani Di noi Non i ragazzi Ma i più Anziani Di noi Si ricorderanno C'era anche Tutto il tema Del Dei referendum Sul nucleare Eccetera Ecco La domanda Che Dahl Si pone È Chi è Legittimato Chi è Competente A decidere Sul tema Del nucleare Ma la stessa Domanda Ce la possiamo Porre Rispetto a Molte Alte Questioni Altrettanto Complesse E Altrettanto Complesse Anche Da un punto Di vista Delle Competenze Tecnologiche Richieste La risposta Che Dahl Adesso Naturalmente Semplifico Molto Ma È Che Non c'è Soltanto Una Competenza Tecnico Strumentale Ma Per decidere Su problemi Di questa Natura È Necessario Anche Avere Una Competenza Politica E Una Competenza Morale Quindi Vediamo Come Il Tema Della Competenza Che Dobbiamo Avere Come Cittadini Per Partecipare In maniera Competente Appunto E Quindi E 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 Alle Decisioni Collettive È Un Concetto Articolato Che Comprende Diversi Diversi Aspetti E Questo È Un Tema Di Grande Importanza E In particolare Nelle Questioni Ambientali Voi Sapete Che È Una Modalità Diversa Di Affrontarli Soprattutto Di Affrontare Problemi Controversi In Campo Ambientale È Non Soltanto Quella Di Utilizzare Normative Legislazioni Eccetera Ma Quella Che Soprattutto In Contesto Anglosassone È Stato La Procedura Della Mediazione Ambientale Della Environmental Mediation Si Tratta Semplicemente Di Una Modalità In Cui I Diversi Attori Interessati A Un Problema Ambientale Si Confrontano Nel Merito Quindi Non Su Aspetti Formali Ma Si Confrontano Nel Merito È Evidente Che Da Questo Punto Di Vista Si Possono Essere Spesso Ci Sono Delle Differenze Di Di Competenza I Cittadini Per Multinazionali Interessate Interessate Allo Stesso Problema Quindi C'è Un Problema Di Competenza Che Significa Avere La Possibilità In quanto Cittadini Di Partecipare Ai Processi Decisionali Collettivi Che Ci Interessano Da Vicino Con Efficacia Qui Secondo Me Si pone Il Tema O almeno Si pone Per Noi Che Ci Occupiamo Di Design Di Cosa Possa Fare Il Design Per Aiutare I Cittadini A Intervenire Con Competenza Nei Processi Decisionali Collettivi Qui Mi Riallaccio In parte A quello Che diceva Jonathan Pierini Sulla Grafica Di Pubblica Utilità Che È stata Un'esperienza Importantissima In Italia E Non Solo Ma Anche Prima Mi Piace Ricordare Tutta La Grande Esperienza Di Otto Neurath Di Isotype Che È Stato Precisamente Un Progetto Non Soltanto E Forse Neppure Principalmente Di Grafica Ma Un Progetto Di Educazione Collettiva Che Ha Utilizzato Gli Strumenti Del Design Della Comunicazione Ecco Questo Secondo Me È Un Tema Anche Riprendendo L'invito E Rispondendo All'invito Di Daniela Piscitelli E Della Dichiarazione Sul Design Di C'è Di Rete Io Credo Che Ripensare Riprendere Questo Progetto Di Noirat Oggi Nelle Condizioni Attuali Possa Essere Una Sfida Molto Importante Dal Nostro Punto Di Vista Avevamo Fatto Un Tentativo Di Questo Tipo 25 Anni Fa Quando Insegnavo In Germania Con Michael Burke E Con Alcuni Colleghi Chiedendoci Cosa Farebbe Noirat Oggi Avendo A disposizione Non Soltanto La Stampa Ma Anche In Quel Momento Non C'era Ancora La Rete Però C'era Il Computer Quindi Era Possibile Utilizzare Il Movimento Il Suono Altri Strumenti Ecco Io credo Che Una Domanda Di Questo Tipo Oggi Potrebbe Essere Ancora Molto Interessante Sia Per Utilizzare Appieno Di Strumenti Tecnologici Che Abbiamo Non Solo Per Diffondere Fake News Ma Per Diffondere Veramente Una Competenza Ai Cittadini E Potrebbe Essere Una Una Sfida Una Quasi Una Provocazione Che Voglio Che Voglio Lanciare Pensiamo Insieme A Rivedere Il Progetto Di Noiat Nella Condizione Attuale Grazie Matteo Moretti Libero Università Di Bolzano Grazie Grazie Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Matteo Moretti, sono un ricercatore alla Libera Università di Bolzano, sono anche un designer, dove mi occupo della ricerca sul visual journalism, sui metodi e pratiche del visual journalism. E oggi invece vi racconto dei progetti che facciamo sia in ambito di ricerca sia con gli studenti, proprio verso la progettazione di esperienze informative che siano anche immersive, partecipative e interattive. Mi vorrei riagganciare a quanto diceva Medardo, proprio perché noi ci ispiriamo molto al lavoro di Neurath per una serie di punti. Il primo ovviamente è questo aspetto più diciamo divulgativo, che è fondamentale. Questo è un po' il modello, noi infatti lavoriamo con team interdisciplinari, proprio come faceva Neurath. Neurath aveva questo ruolo dove il designer non era semplicemente un progettista, lui aveva chiamato se stesso trasformatore. Quindi una figura in grado di trasformare, adeguare il linguaggio sia visivo sia testuale al pubblico di riferimento. Ed è quello che un po' facciamo noi, infatti, scusate adesso continuo il grafico. Collaboriamo con giornalisti che si occupano principalmente di raccontare la storia, raccogliere dati e verificare le fonti. Designer, come poteva essere nel gruppo di Neurath, Gernhardt, che si occupano poi di rappresentare e creare queste esperienze visive, e anche scienziati sociali. Perché? Perché siamo convinti, diciamo, il visual journalism nasce da una sorta di estensione di quello che viene chiamato data journalism, quindi infografiche e così via. Nella nostra accezione però siamo convinti che i dati non servano o non siano completamente la storia. I dati spesso raccontano meno della metà di quello che è un fenomeno, soprattutto quando si parla di questioni sociali. Ed è per questo che ci avvaliamo anche della collaborazione di sociologi e antropologi. Quindi lavoriamo in team il quanto più eterogenei possibili, proprio per restituire diversi punti di vista in un'unica narrazione che è la più organica possibile. Per fare questo ci avvaliamo quindi di metodi di design collaborativo, quello che si diceva prima. Proprio perché il processo è diverso da quello tradizionale, in cui ad esempio, nel caso di un'infografica, il giornalista scrive l'articolo, l'esperto dà i numeri, non nel senso che impazzisce, ma dà le cifre, e il designer fa l'infografica. Invece quello che noi facciamo è lavorare tutti assieme sin dall'inizio sullo stesso tema. Ognuno è libero di entrare nel merito della disciplina altrui e dire la propria, ovviamente nel rispetto di tutto questo, ma proprio lavorando in maniera il più organica possibile. Ovviamente con un sacco di conflitti che si cerca sempre di risolvere, e ovviamente con dei vantaggi, ma degli svantaggi, tra cui anche i lunghi tempi. Però questo ci permette ad esempio di affrontare questioni sociali spesso molto complesse e restituirne più sfumature, perché come sappiamo la natura complessa in cui ci muoviamo è veramente difficile anche da raccontare, soprattutto a un pubblico più ampio e spesso non così attrezzato. In questo anche c'è una similitudine col processo di Neurath. Quindi questo ci permette di restituire fenomeni complessi e sfaccettati a un pubblico più ampio o in maniera più coinvolgente. E quello che cerchiamo di fare alla fine è abilitare i lettori alla comprensione di questa complessità. Lo facciamo attraverso dati e fatti e anche permettendo così di sostenerli nei dibattiti online, quindi nelle famose battaglie su Facebook, ovviamente a sostegno anche di una maggiore coscienza civile. Diciamo, gli esempi più forti sono quelli che sono progetti di ricerca. Uno si chiama La Repubblica Popolare di Bolzano, un progetto nato in seguito a una forte pressione e una percezione distorta, diciamo, di quello che secondo me è distorta della realtà a Bolzano perché in quegli anni, intorno al 2014, spesso girava anche sui media locali questa voce che Bolzano era invasa dai cinesi e addirittura si parlava di Chinatown. Quello che ha fatto sto progetto è sia con i dati ma anche grazie a delle interviste curate da un'antropologa di restituire un'altra narrazione, una contronarrazione quindi, in grado assolutamente non di affermare che l'altra era sbagliata, ma di contrastare la narrazione dominante e quindi aprire un dibattito. Un dibattito che poi è stato in grado anche di far ritrattare dai media locali quello che era la narrazione dominante. Analogamente un altro progetto, si chiama Europa Dreaming, parte sempre dal locale perché nel 2015 Bolzano, o meglio il confine del Brennero, è stato, diciamo, il fulcro di una, anche di sgregazione europea perché c'era tutto il passaggio dei migranti che sbarcavano a Lampedusa e cercavano di raggiungere la Germania e quindi da un fenomeno locale abbiamo aperto il discorso proprio verso un racconto che cercassi di problematizzare la questione perché spesso nei media anche nazionali si parla della crisi dei migranti, ma in realtà è la crisi dell'Europa che avviene per mano dei migranti. Abbiamo quindi con dati, e non solo quantitativi ma anche qualitativi, raccontato come il problema sia dell'Europa, dell'insostenibilità di Schengen e come questo fenomeno esiste almeno da vent'anni. Dopodiché questa, diciamo, è la parte più di ricerca sui quali poi noi con questi casi studio andiamo a pubblicare e fare delle riflessioni di tipo più accademico, ci sono quelle che ho chiamato esperienze informative, quindi modi nuovi di portare le informazioni nello spazio pubblico proprio perché spesso nel mondo digitale, come si diceva prima, c'è un sacco di informazione e disinformazione e c'è anche quello che viene chiamato il pregiudizio di conferma, quindi persone che ascoltano e leggono solo cose che supportano la propria posizione. Questo è un progetto fatto insieme a Giorgio Camuffo, con i nostri studenti, il titolo è abbastanza ironico, si chiama Psicosi e lenticchie, perché? Perché racconta di, fatto insieme a un giornalista, di circa 2000 finti allarmi bomba che sono occorsi nella settimana successiva all'attentato al Bataclan. Questo perché? Perché oggetti d'uso comune, spesso dimenticati nelle stazioni come borse, ma anche come quell'immagine di prima, barattoli di piselli o di lenticchie, si trasformavano di colpo in potenziali oggetti di terrore, generando quindi una notizia soprattutto sui quotidiani locali e dando vita a un'escalation informativa che poi aveva luogo sui social network. Quindi gli studenti hanno quindi catalogato tutti questi titoli, informazioni, e hanno creato questa sorta di spazio in cui le persone potevano entrare e potevano leggere verso, diciamo, una maggiore riflessione su quello che è la pressione mediatica che poi è anche la psicosi collettiva che spesso portava a riconsiderare, riconfigurare oggetti d'uso quotidiano come potenziali strumenti di terrore. Un altro progetto abbastanza divertente è stato questo, si chiama El Dorado di Max Hornacker, sono una serie di capsule informative che sono state distribuite in alcuni negozi del centro. Ogni capsula tratta un argomento che è quello del rapporto tra italiani e stranieri. Secondo una statistica Ipsos Mori nel 2014 gli italiani pensavano che gli stranieri in Italia fossero il 35%, il dato reale invece è che sono neanche l'8%. Queste capsule quindi contengono una serie di informazioni, ad esempio questa racconta del ruolo che hanno gli stranieri e, diciamo, l'influenza anche proprio economica sulle pensioni. Quindi ci sono dentro degli oggetti, metaforici ovviamente, in questo caso delle monete, e le monete che rappresentano gli stranieri sono dorate, dal concetto di El Dorado, che è un concetto ovviamente metaforico, perché spesso siamo visti come l'El Dorado dai vari migranti che sbarcano, ma anche un'altra riflessione che sono loro il nostro El Dorado, nel senso che poi se andiamo a vedere la capsula relativa al lavoro agricolo, il 40% del lavoro agricolo è fatto da stranieri. E quindi questi oggetti sono stati in grado di aprire una riflessione, un dibattito, poi ogni capsula conteneva, come potete vedere, una didascalia che rimandava l'informazione contenuta e un piccolo codice QR che mandava all'articolo online, con tutte le fonti. Dopodiché ci siamo anche confrontati verso esperienze interattive, e questo progetto è piuttosto divertente, si chiama Chernobyl, e vuole sensibilizzare un pubblico eterogeneo su il proprio ruolo quando si condivide una cosiddetta fake news. Perché? Perché quando io condivido un'informazione che non è verificata e spesso è anche proprio sbagliata, non creo solo un problema a me stesso o ai miei amici, ma vado ad alimentare una narrazione tossica che esponenzialmente aumenta. Allora c'era questa metafora dell'intossicare, e quindi è venuta fuori una... è nato questo progetto che è un'installazione molto giocosa in cui quattro giocatori vengono sottoposti a una serie di informazioni che possono essere più o meno false. I giocatori possono solo condividerle e se la condivisione di una news, ovvero, scusate, se viene condivisa una fake news, parte una nuvola maleodorante proprio a metaforizzare che chi avvelena il dibattito avvelena anche le persone intorno. Ovviamente se uno condivide una news che non è falsa, viene attivata una ventola che assorbe invece l'odore. Ovviamente questa è una cosa molto giocosa, però condietro una serie di riflessioni piuttosto importanti, proprio allo sviluppo di una coscienza civica, anche quando sia online. Infine, l'ultimo, e poi è finito, è un progetto di ricerca finanziato che tratta un tema invece piuttosto spinoso, che è la prevenzione al cancro. C'è un problema, spesso nessuno, o difficilmente, ci si vuole informare sulle misure di prevenzione al cancro, anzi, spesso quando si legge cancro lo si associa alla morte e questi argomenti vengono evitati. E così abbiamo pensato a questa installazione partecipata che ha avuto luogo al TED-Med, che è un TED Talk di tipo medicale, in cui le persone, inizialmente, gli veniva chiesto se seguono una serie di abitudini, come ad esempio se bevono o fumano. La cosa particolare però è stata sulla seconda parte di questa, diciamo, grafica partecipata, perché alle persone è stato chiesto, come vedete lì, di indovinare su dei numeri, quindi esponendoli alla loro ignoranza. Quindi, quante persone ad esempio si ammalano di cancro ogni giorno? Nessuno lo sa, nessuno ci ha mai riflesso. Il venire esposti all'ignoranza ha fatto sì che scattasse un processo di curiosità, quindi dopo le persone i partecipanti volevano sapere effettivamente questi dati e infatti è stato poi distribuito e ce l'hanno richiesto tutti i 150 partecipanti un booklet informativo che andava a rispondere a tutte le questioni. Questo, inoltre, ha permesso di capire anche il livello, diciamo, di ignoranza in senso buono dei partecipanti. Come potete vedere, la seconda parte del grafico mostra in realtà come le risposte rispetto ai numeri legati al cancro siano completamente sballate proprio perché non c'è un'idea chiara e c'è proprio un buco di conoscenza. Questo è quello che noi facciamo, insomma, a Bolzano nell'ottica di ricercare su metodi innovativi per formare un pubblico più ampio e spesso poco attrezzato. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto. Giorgio Camuffo, Libera Università di Bolzano. Inizio. Quando Gianni mi ha invitato io mi sono chiesto cosa potevo dire, cosa potevo fare qua. io non sono un designer civico, non sono un designer sociale, sì, mi occupo di design in qualche modo molto così vagamente, o guardo con diffidenza tutti quanti i corsi che hanno nel titolo design sociale, ecco sociale, queste cose non mi interessano proprio, ho qualche dubbio, ho anche dei dubbi sui progetti dove i grafici si mettono in primo luogo tipo design, come si chiama, first design thing che mi sembrava c'è una cosa che se poi si guardano i nomi i nomi sono completamente astratti. Ho anche, devo dirti di qualche grossa perplessità anche sul design della pubblica utilità, non sono d'accordissimo con mio collega Jonathan anche se condivido tantissime cose, non credo molto a queste cose, io sono d'accordo in linea di massimo naturalmente con Ian Van Torchie che il design è sempre comunque politico, noi comunque qualsiasi cosa che facciamo è sempre un atto politico, disegnare una locandina, un manifesto per Berlusconi e disegnarlo per l'associazione sotto casa sono due cose totalmente differenti, quindi non è un discorso di coscienza civica, è un discorso anche ci sono i design intelligenti, i design stupidi, ci sono gli uomini intelligenti e gli uomini stupidi, cioè questo non mi piace, classificare anche nel campo del design, noi viviamo in questo modo, però non è che i temi che oggi vengono discussi qua non mi interessano, mi interessano moltissimo, mi interessano soprattutto, mi interessano sia da un punto di vista didattico, perché per me parlare di questi temi allarga tantissimo, l'abbiamo provato sia con Matteo che con Jonathan, allarga tantissimo le competenze, le conoscenze e anche i discorsi che noi possiamo fare con i nostri studenti, dopo vedrete il lavoro che ho fatto in questi anni a Bolzano, che abbiamo fatto insieme in questi anni a Bolzano e anche a mio avviso potrebbe essere anche un sviluppo molto interessante da un punto di vista occupazionale, perché forse anche la società ha bisogno delle competenze, delle conoscenze, del design, ha bisogno di quello che noi sappiamo fare, cioè comunicare è fondamentale, è molto importante. Io ogni volta, in maniera da sempre, una volta ho avuto la fortuna di leggere una frase, non sono un grandissimo ammiratore, neanche di Enzo Mari, perché ho lavorato con lui ed è veramente duro, però Enzo Mari dice una cosa fondamentale, gli dice un designer deve avere un'idea del mondo, se non ha un'idea del mondo, se non sa dove vive, se non sa come vive, a parte che gli manca comunque la percezione, ma se non sa dove vivere, se non dove vive, o è uno stupido o è uno servo del padrone. La coscienza del design è fondamentale, noi dobbiamo sapere che lavoro facciamo, come lo facciamo, con chi lo facciamo, cosa provoca e anche economicamente come veniamo pagati, perché anche questo bisogna dirlo ed è molto importante. Ritorniamo a Gianni e alla sua richiesta, io non sapevo che cosa dire, però guardando proprio per questo aspetto sulla didattica un po', non mi ricordo come il tuo nome, Laffaella, possiamo passare, devo farlo io, e qua, come si fa? No, come si fa? Ecco, ho guardato i titoli dei miei corsi, no, non di tutti naturalmente, perché poi mi occupo anche di altre cose, però i titoli dei miei corsi e i corsi che ho fatto naturalmente e i risultati che ho avuto con gli studenti hanno sempre avuto come una forte componente sociale, per esempio, i titoli guardati, uno era Bolzanopoli, posso parlare senza microfono perché ho già questo in mano se no devo fare, ah scusa, allora, il primo era Bolzanopoli, il primo a volte che sono venuto a Bolzano è stato un corso, una tragedia, perché venito via a Venezia, devo accenderlo? Sono arrivato a Bolzano pieno di buona volontà e avevo cinque studenti, fa conto di una roba del genere, però il tema era molto impegnativo e gli studenti, per fortuna, erano bevi studenti. Ho lavorato proprio su dei gruppi, cioè mandando gli stessi, non ho nessuna immagine, perché mi scuso, ho fatto, mi è stato anche piacevole rivedere questi lavori questa mattina in treno quando li ho preparati, perché poi lavorare con i gruppi, con i gruppi, lavorare con i gruppi è stato molto importante. Invece un corso che ho fatto con mio collega Riccardo Locco, il primo corso che ho fatto in questo genere era questo, si chiamava Esponiamoci, dove invitavo proprio gli studenti, a me impressiona sempre, e la nostra è una platea soprattutto di studenti, ma mi impressiona sempre vedere come molte volte, non sempre, ma molte volte gli studenti non sono attivi, non partecipano ai problemi del mondo, sono anche abbastanza passivi tutto sommato, adesso non voglio offendere nessuno. Allora, Esponiamoci, era proprio questo, un invito a partecipare, però poi io devo aprire una parentesi, raccontarvi una storia che è una storia bellissima che mi ha cambiato proprio l'esperienza, la vita. Io ho lavorato per molti anni a fabbrica con Olivero Toscani e lavorare con Toscani, Toscani ha avuto di queste controverse campagne civiche, molto amate da una parte e anche molto criticate da un'altra. Il mio ruolo era quello di preparare i progetti didattici molto bislacchi allora con gli studenti e soprattutto organizzare i workshop. Io ho invitato tutti, sono venuti tutti, 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 e tutti hanno accettato soltanto un signore che si chiamava Gérald Paris Clavel, voi esatto, un gruppo di Elgar Pousse, uno dei grandi grafici francesi con una storia bellissima anche di scelte molto forti, mi ha detto signor Camuffo lei è matto se io posso se lei pensa che io posso accettare l'invito è venire dall'imperialista Luciano Berettone e dal suo schiavo Olivero Toscani e non è venuto, mi ha scritto in francesi dove risponde gli italiani e allora però mi ha detto se lei vuole mi venga a trovare ed è stata un'esperienza bellissima. Sono stato a casa sua a Paris Clavel avevo uno studio a 60 persone, avevo uno studio grandissimo, ho fatto immagini corporate identity per i grandi e per le grandi istituzioni e io sono stato da lui in Place Voltaire nella periferia di Parigi e mi ha mostrato questo posto magnifico che era una goduria per gli occhi e anche un forte impegno politico. Paris Clavel aveva due motti che io consiglio lo dico sempre ai miei studenti ma consiglio lo dico anche a voi il primo motto era resistence esistence resistere per esistere per esistere per esistere per avere un corpo bisogna resistere bisogna costruirsi una figura e il secondo motto era alla miseria della vita non deve corrispondere alla miseria dei segni e questi erano sono stati grandissimi segni ho invitato Paris Clavel a casa mia nel mio studio che allora aveva uno studio professionale non ha voluto vedere i grafici ha voluto incontrare soltanto le persone che lavorano nell'ambito del sociale e anche questo è stato un insegnamento e ogni volta che faccio questi temi io porto sempre i miei studenti siamo andati con Jonathan a vedere porto gli studenti a Parigi da Paris Clavel insieme lui ci prepara da mangiare e insieme discutiamo dei temi del corso ed è un'esperienza fondamentale qua c'è una mia studentessa molto cara tra l'altro e questo è il primo corso questi sono i temi che io ho affrontato ecco questo per esempio era il tema dei divorziati i nuovi poveri come sono i nuovi poveri abbiamo fatto questa grandissima infografica l'abbiamo messo in città proprio un po' come ha fatto prima la professoressa e la gente si fermava chiedeva prendeva i dibattiti i documenti questo invece è stato un altro progetto fatto da una mia studentessa che tra l'altro adesso è impiegata in un'associazione questo mi fa molto piacere perché poi quando vede gli studenti che lavorano è anche come un riconoscimento del mio lavoro lavora per un'associazione sociale a Bolzano e questo era un progetto bellissimo dove abbiamo invitato tutti gli abitanti del quartiere del quartiere di Casanova che è un quartiere di Bolzano periferico un quartiere bellissimo da un punto di vista architettonico ma freddo di fatto dopo vi faccio vedere l'ultimo progetto che facciamo a costruire insieme questa grande scritta con i fiori era molto bello questo invece era un progetto ambulante di senza casa e abbiamo costruito una mappa dove volevamo informare la città proprio e senza tetto che ci sono a Bolzano dei luoghi dove è possibile fare la doccia dove è possibile mangiare dove è possibile trovare dei vestiti e gli studenti andavano in giro proprio loro la cosa più bella adesso dico una roba strana a me non interessa tanto che lo studente sappia tutto dell'Elvetico o tutto del Bodoni mi interessa tantissimo che lo studente abbia passione sia passione costruisca dei discorsi e questo è stato veramente formativo ecco il secondo progetto è un progetto più recente invece sempre che riguarda Bolzano ho fatto con un altro mio collega Gianluca Camillini e Valeria Burgio qua invece abbiamo raccolto delle storie sulla città ed è un progetto molto bello i libri erano molto molto belli abbiamo raccolto inizialmente volevamo raccogliere delle storie sulla città e poi invece siamo finiti a raccogliere anche parlare di noi stessi delle nostre storie poi noi abbiamo anche come ha fatto vedere prima Matteo anche la possibilità di seguire molto bene gli studenti nelle tesi e quindi costruire con loro un apprendimento comune e abbiamo fatto questi temi che poi tutti i miei progetti comunque alla fine finiscono sempre con una festa con un evento con qualcosa di pubblico perché per me è importantissimo che gli studenti abbiano un confronto con la gente il design è prima di tutto il design è la comunicazione è fondamentale parlarsi ho anche qua una cosa bellissima prima quando parlava Dan io sono un grandissimo ammiratore mi piace tantissimo vorrei conoscere molto di più della cultura ebraica ho un amico grande esiggetta e lui mi raccontava come i giovani ebrei studiano la Torah i giovani ebrei studiano la Torah uno davanti all'altro dialogando continuamente in un ambiente pienissimo di gente molto rumorose lo studio la conoscenza è sempre condivisione questa per esempio è una storia bellissima di una ragazza che attraverso questo libro ha dichiarato anche la sua sessualità questa invece è la storia di un altro di un travestito che abitava fuori e che il mio studente ha raccontato la sua storia questo è un altro progetto che abbiamo fatto recentemente con Jonathan che abbiamo fatto una rivista dove i miei studenti gli articoli praticamente erano scritti progettati e vissuti in prima persona dagli studenti abbiamo fatto le bandiere ecco questa per esempio è un'esperienza che a me è piaciuta tantissimo per la delicatezza anche della persona si chiama Shane e la Shane non è una bravissima designer però una forte carica empatica e lei andava dai si sentiva parte di questo mondo naturalmente e lei andava da quelli che non hanno nessun tipo di permesso che abitano nelle stazioni e con loro ha costruito un dialogo ha costruito dei workshop e alla fine aveva questa amicizia si può dire e con lei ha fatto questo progetto di una rivista di un foglio una serie di fogli molto belli tra l'altro così questo era un altro progetto che mi è piaciuto tanto i progetti sono tantissimi in realtà ogni progetto ne faceva uno questo era il progetto siccome il tema era chi sono i nuovi locali chi sono quelli che vengono a abitare nelle città sono soltanto i neri gli emarginati o siamo anche noi allora che differenza siamo tutti quelli che abitavano nelle grandi città e allora questo mio studente ha costruito questo progetto che si chiama dal locale al nuovo locale e lui ha preso un tavolino o una cosa e è andato in giro cercando che la gente raccontasse delle storie poi queste storie le ha prese le ha stampate e le ha imbucate Jonathan abbiamo vissuto abbiamo fatto dei corsi molto molto belli alcuni non sono documentate queste lettere sono lettere scritte nelle loro lingue anche illegibili ma non importa sono come voli non so assenze cose che però sono utili e questo invece è l'ultimo progetto quello che sto facendo adesso di fatti questo invito di Gianni cade proprio a Fagiolo a proposito di architettura e questo è un progetto che noi facciamo a Casanova che è un quartiere periferico bellissimo ma vuotissimo la gente non si parla super architettura ma freddissimo e noi abbiamo in collaborazione con una societazione che lavora là abbiamo creato proprio tutta una serie di eventi di progetti per far sì che la gente semplicemente si parli per creare queste connessioni ogni mio studente prepara un progetto e con questo progetto devo e con questo progetto lo fa in collaborazione ecco anche un'altra frase che ritorna sempre noi non lavoriamo per ma lavoriamo con io insisto su questo con gli studenti lavoriamo con gli abitanti lavoriamo con le associazioni lavoriamo con le altre figure e i miei studenti stanno facendo questo lavoro qua abbiamo fatto prima una parata abbiamo fatto con delle frasi molto ironiche per creare anche semplicemente rumore siamo andati proprio con i megafoni per far uscire la gente dalle finestre che non esce che non esce no e abbiamo costruito queste bandiere no è vero o no bellissimo no e poi ecco i miei studenti abbiamo fatto molto molto velocemente in una maniera così faremo tre numeri quindi in tre mesi con un lavoro anche molto stressante facciamo una rivista e l'abbiamo creamata insieme condividendo il titolo Nebraska che non c'entra niente ma l'ebraska è un quartiere uno stato gelido dell'America no e allora abbiamo anche nel titolo devo dire abbiamo fatto questa cosa qua e questo è il numero uno e questo è il numero due ecco anche proposito poi ecco questi corsi che io faccio così mi danno la possibilità anche di parlare di editoria di parlare di immagine coordinata di parlare di tipografia di parlare di partecipazione di parlare di go design cosa significano questi termini se noi non li proviamo se noi non li viviamo con gli studenti e questo è molto diverso per esempio per far questo adesso vedete un copertino in cane un cane ma i miei studenti hanno fatto un casting sono andati tutte le sere tutte le settimane a fotografare tutti quanti la gente che abitava nel quartiere queste ecco queste sono le frasi alcune sono belle per esempio chi è il tuo vicino ti piace il couscous anche delle frasi molto banali che poi sono diventate delle bandiere e questo è un progetto i progetti dobbiamo ancora farli perché faremo una grande festa da far girare la testa come dice Celentano o no e questo è un progetto un progetto dove una mia studentessa tra l'altro una ragazza giovanissima ma molto molto brava passa con dei fili da una parte all'altra ma in realtà l'evento non è interessante in sé è interessante che lei sia stata là che abbia sonato il campanello che abbia costruito una grafica che abbia fatto i manifesti che abbia portato i manifesti che abbia messo le cose nelle buca delle lettere e questo è il progetto che ha fatto e saranno e saranno questo il manifesto la primissima bozza del manifesto ma vedete ci sono tutta una serie adesso mancano dei disegni naturalmente ma ci sono per esempio una ragazza ha scoperto un poeta e con il poeta prende le poesie le gira e le stampa le mette sotto monta su tutto il quartiere un'altra organizzano una grandissima cena devo tagliare esatto e dopo altri va bene io vi ringrazio e basta ah no scusate volevo dire un'altra cosa Gianni Sa per esempio un mio progetto che facevo a Venezia tanti anni fa prima di diventare professore era questa una rivista che mi ha aiutato molto si chiama Venice Noscinchi che è una rivista io facevo una rivista si chiama Vasugo questa invece è una rivista fatta solo dai veneziani ecco non andiamo in cerca di grandi nomi di grandi cose guardiamo quelli che abitano sotto e che lavorano con noi per esempio adesso volevo riprendere un altro numero di Venice Noscinchi ma non sono riuscito a farlo perché a Venezia la situazione è difficile allora farò farò questa cosa qua faccio un libro a fumetti perché ultimamente disegno molto su Venezia sui gabbiani e sui veneziani questo è un intermettitore regolare abusivo e questo invece è un turista smerdato dei colombi grazie Flaviano Cielaschi Università di Bologna bene grazie grazie di questa occasione di conoscerci e di rincontrare molti amici e colleghi io vi voglio parlare di diritti e doveri del progettista creativo di diritti perché penso che sia importante nella società contemporanea che noi si abbia il diritto di essere riconosciuti come importanti importanti come quanto importanti come se tentessimo di fare una metafora biologica potremmo dire che fino a un po' di tempo fa immaginavamo che il corpo umano fosse fatto di due insiemi la mente e il corpo se se proiettiamo questa metafora dentro a una situazione produttiva di tipo capitalista potremmo dire che la mente ha il settore terziario i cosiddetti servizi il corpo è il primario l'agricoltura la produzione del cibo è il secondario però non non basterebbe non basterebbe non funziona così ormai da un paio di decenni sappiamo che l'organismo umano è fatto di tre insiemi e che oltre al corpo e alla mente c'è il bioma e il bioma è qualche miliardo di organismi che vivono sulla nostra pelle nel nostro intestino e senza i quali non esisterebbe equilibrio vitale nel nostro organismo non li vediamo non li sentiamo li sentiamo poco li sentiamo quando esiste un disagio quando c'è un problema cerchiamo continuamente da quando abbiamo scoperto questo di nutrirci e di fare in modo che questo bioma ci sia e funzioni e collabori e senza il bioma non ci sarebbe né corpo né mente né equilibrio tra corpo e mente ecco mi piace descriverci come progettisti creativi con la certezza che abbiamo questo diritto abbiamo il diritto di esistere in questo organismo e ne siamo anche se non troppo visibili anche se non chiassosi fondamentali e l'organismo deve trovare un equilibrio per farci sopravvivere per farci vivere per farci proliferare senza di noi non funziona e quindi è importante che in una metafora produttiva di qualsiasi natura vogliamo parlare ci si renda conto che questi milioni di organismi creativi sono assolutamente dinamicamente fondamentali a questo proposito anche grazie con la partecipazione dell'università di San Marino nella regione Emilia Romagna ci siamo dati uno strumento che si chiama cluster industrie culturali e creative abbiamo pensato che non si poteva fare altro in un territorio come il nostro che dare rilievo a livello regionale a una serie di operatori che sono a volte imprese a volte producono dei beni a volte sono solo produttori di conoscenza a volte sono dei creativi come noi che hanno pieno diritto di sentirsi parte dell'attività produttiva e vitale della nostra regione e quindi la regione ha accettato questo e da un anno siamo la settima colonna dell'attività produttiva di un piano che si chiama Smart Strategies e che rappresenta i sette settori produttivi fondamentali dell'Emilia Romagna per i quali vengono investite tutte le risorse in ricerca e in sviluppo anche tecnologico fondamentale quindi aver ottenuto questo obiettivo di visibilità questo obiettivo di certezze anche questo obiettivo di riorientamento di risorse economiche collettive che fino ad oggi andavano a settori classici autorevoli la metalmeccanica l'agri-food eccetera eccetera esiste questo fenomeno questo è un nostro diritto ce lo siamo conquistati speriamo che questo modello si propaghi anche nelle altre regioni l'Europa suggerisce fortemente questa politica perché ci ha dimostrato che è molto più efficace riconoscere i settori chiave di un'economia di uno sviluppo di una società e investire interamente su di essi anziché disperdere in modo non controllato le risorse collettive parliamo anche di doveri noi abbiamo il dovere di riconoscere che possiamo sviluppare anche un ruolo particolare se mi permettete di disegnarvi qui uno schema diciamo che la società in cui viviamo da molto tempo è rappresentata in particolare da tre insiemi potremmo collocare qui l'insieme dei produttori della conoscenza sono le università i centri di ricerca sono gli studiosi la scienza e da questa parte potremmo mettere le imprese chi produce beni e servizi e dalla parte opposta potremmo mettere i cittadini in questa sorta di triangolo che sono fruitori o consumatori in una dinamica consumistica di tipo capitalista ecco questi tre insiemi se me li immaginiamo nella città dove lavoro che è Bologna nel 1100 quando è nata l'università di fianco a Piazza Grande c'è un grande portico in questo portico c'erano gli impresari gli imprenditori i commercianti i negozianti con le loro merci le loro attività sotto il portico passavano le persone i cittadini dentro a un androne c'era l'università ci si conosceva si cominciava a parlare il volgare ci si scambiava conoscenza in tutti i termini possibili ci si controllava visivamente chi fa cosa quando lo fa perché lo fa eccetera una società piuttosto coesa nella dinamica diciamo tardo medievale rinascimentale ecco questi tre poli nella complessità della società che poi è venuta hanno cominciato ad avere problemi a dialogare tra di loro si sono un po' allontanati una sorta di deriva progressiva che ha fatto sì che a un certo punto ci sia stato bisogno di inventare dei mediatori e abbiamo inventato tre sistemi di mediazione per esempio le ingegnerie si sono collocate tra i centri di conoscenza di scienza e le imprese proprio per veicolare meglio questo tramite che si stava complicando troppo per essere recepito gli intellettuali si sono collocati tra la produzione della conoscenza il cittadino proprio per divulgare accompagnare l'assorbimento di questo il mondo dell'economia del marketing aziendale si è collocato tra chi produce chi consuma per cercare di aggiustare questo diciamo che questo modello ha funzionato per molto tempo ha funzionato benissimo fino a quando probabilmente l'aumento della complessità della società in cui viviamo e anche un po' di presa di potere di questi raggruppamenti di mediatori che costano molto e se non sono efficienti cominciano a provocare un po' di fastidio alla società stessa hanno cominciato anche loro a divergere ad allontanarsi l'uno dall'altro o a creare dei saperi specialistici che non si capiscono più quasi neanche tra di loro quindi ai tre ceppi che parlavano già tre lingue difficilmente comunicabili tra di loro se ne sono aggiunti almeno altri tre e questa deriva continua ad espandersi lasciando al proprio centro un vuoto un vuoto che si sente molto si sente tutte le volte che cerchiamo in questo schema di mettere il governo diciamo ma come non c'è un governo in questa società non lo so collocatelo voi dove volete io mi son detto guardando anche i fatti degli ultimi degli ultimi anni che probabilmente il governo ha finito per essere equamente diviso tra quello che chiamiamo populismo c'è un certo modo di essere cittadini e di comportarsi nel mondo e le grandi imprese quelle grandi veramente grandi imprese che controllano l'economia e ne determinano le conseguenze quindi faccio fatica a collocare una terza dimensione delegandogli il potere di governare questo sistema resta il fatto che qui in mezzo c'è un grande vuoto ed è un vuoto che non è fatto e per questo lo metto nei doveri e non nei diritti per collocare al centro il design per collocare al centro il progettista creativo semmai per dichiarare quanta umiltà ci vuole per mettersi lì in mezzo avere la consapevolezza che c'è un enorme spazio in cui se noi molto umilmente ci andiamo a collocare e facciamo lo sforzo tutti i giorni tutto il giorno di imparare queste tre lingue e di interpretarle vicendevolmente tra di loro penso che arriveremmo a svolgere in modo riconosciuto un lavoro assolutamente necessario e indispensabile per la società in cui viviamo vi ringrazio molto Lorenzo Imbesi Università degli Studi La Sapienza di Roma Grazie a tutti Buonasera a tutti anch'io mi unisco ai ringraziamenti all'organizzazione all'Università di San Marino a Gianni Sinni ovviamente io vi ho portato nel tentativo di essere didascalico e di entrare nei dieci minuti io ho portato qualche slide qualche riflessione sul tema dell'intelligenza collettiva con cui vorrei in qualche modo tagliare l'argomento del convegno è un progetto didattico che ho svolto insieme agli studenti della magistrale di Proda Design e della Sapienza dove insegno e come detto appunto io vengo da Roma Sapienza Università di Roma però parte del mio lavoro è anche con un network che si chiama Cumulus che molti di voi probabilmente conoscono e si tratta di 250 università colleges scuole di design ed arte dispersi in tutto il mondo e che si è fatto promotore di una serie anche di carte e di documenti legati appunto al tema di cui discutiamo io vorrei partire da un libro e da una signora che si chiama Anna Arendt una filosofa e io sono stato molto interessato al suo lavoro per una non solamente per i contenuti in particolare questo libro la condizione umana che è legata anche al tema del totalitarismo lei ha studiato molto il discorso del totalitarismo lei ha vissuto in un periodo molto critico durante il nazismo è stata costretta ad espatriare ha vissuto per molti anni in America e per molti anni è stata apolide cioè non aveva un territorio di fatto ha lasciato appunto la Germania e contemporaneamente però non ha preso un'altra cittadinanza e gli Stati Uniti non ha lasciato nessuna cittadinanza per molti anni e questo è come dire una condizione molto interessante una condizione come dire di nomadismo di deterritorializzazione se vogliamo lei in questo libro dice che la condizione umana è di fatto sessa stessa una condizione plurale perché sono molteplici le capacità sia degli uomini che delle donne e perché allo stesso momento non siamo mai soli mentre abitiamo un ambiente cioè noi abitiamo di solito insomma il nostro ambiente insieme ad altre persone e tutte le nostre azioni e il design è un'azione insomma tutte le volte che interveniamo appunto nel nostro ambiente per cambiarlo o per comunque sia per condizionarlo in qualche modo e noi non siamo mai soli ma siamo aperti verso il mondo stesso e cioè conteniamo all'interno di noi stessi altre persone e nello stesso modo le altre persone e la nostra azione contiene le altre persone che ci stanno intorno ma se pensiamo il design il design e il designer stesso è un processo che di fatto include sempre altre persone e appunto una condizione plurale io credo che sia molto interessante questo elemento legato pure a un'altra condizione contemporanea che sappiamo tutti è quella della fine delle grandi narrazioni libro di riferimento che conosciamo tutti quanti la condizione postmoderna in cui si dichiarano definitivamente chiuse le grandi narrazioni quelle appunto del totalitarismo delle ideologie che però di fatto nel secolo scorso ci hanno aiutato a dare delle risposte il design di fatto dà delle risposte alla quotidianità ai problemi delle persone ma nel momento in cui appunto ci come in assenza appunto di elementi di giudizio che ci aiutano appunto a dare delle risposte emerge delle risposte che possono essere uguali e questo è l'elemento dell'ideologia possono essere uguali in ogni luogo e in ogni tempo nel momento in cui come dire si dichiarano finite queste risposte di fatto emerge comunque sia l'esigenza di dare comunque delle risposte che abbiano a questo punto un valore locale cioè noi comunque quotidianamente attraverso il design attraverso il progetto siamo in qualche modo stimolati a dare delle risposte alle persone e per cui per cui davanti alla crisi appunto delle la categoria metafisica di etica che appunto come la religione che poteva dare o dell'ideologia che poteva dare una risposta in ogni momento c'è una nuova domanda al mondo contemporaneo che sta emergendo di un'etica che abbia un valore locale in un momento stesso e per cui invece che avere un'etica unica una religione unica un'ideologia unica che possa dare una risposta unica e modularla a seconda delle circostanze emergono tante etiche diverse nella complessità del mondo emerge appunto una esigenza forte di costruire una serie di etiche complesse che possono dare in maniera anche fluida come dire una risposta e per cui un'etica per la tecnologia un'etica che sia locale che globale un'etica della produzione un'etica del desiderio se vogliamo un'etica della conoscenza si parla anche di finanza etica di etica dell'estetica partecipazione e così via e per cui la grande domanda che immagino per cui siamo qui tutti quanti riuniti e che è una domanda contemporanea per il design è quali sono le responsabilità del design verso la società verso la società contemporanea e la complessità che appunto richiede un volume una persona un personaggio che ha tentato sin dalla fine degli anni 60 anni 70 quindi dare risposta è Victor Papani con questo libro questa tra l'altro la copertina del tempo progettare per il mondo reale cioè esiste un mondo reale lì fuori che chiede design chiede progetto a cui noi punto dobbiamo rispondere però io vorrei sottolineare un altro personaggio un altro concetto che è il concetto di intelligenza collettiva e cioè Pierre Lévy in particolare un filosofo ha elaborato questo concetto legandolo molto alla questione tecnologica e al fatto che l'intelligenza collettiva è legata alle capacità collettive cognitive di una società una comunità o un gruppo di persone di individui appunto di dare delle risposte queste capacità vengono moltiplicate chiaramente attraverso pure le tecnologie e per cui si parla di intelligenza collettiva diffusa un lavoro che abbiamo provato a fare qualche anno attraverso attraverso un convegno designer collective intelligence e all'incirca 6-7 anni fa un convegno internazionale con design principale practices con Vancouver a cui abbiamo provato a dare una risposta in questa direzione un altro lavoro che mi ha trovato in qualche modo attivo è questo lavoro sulla social innovation in Canada che è stato prodotto io ho lavorato per un po' di anni appunto in Canada su questo tema e questo è uno dei prodotti che è uscito fuori qualche anno fa e l'altro elemento su cui l'altro tema su cui ho lavorato parecchio è il concetto appunto di nomadismo esi sono due volumi che ho scritto recentemente nomad più design su cui ho cercato un po' di lavorare sia sulle categorie che sui fenomeni legati al nomadismo e cioè il design è un processo che non è più legato esclusivamente ai territori i prodotti che si progettano di solito sono prodotti atopici che possono essere spostati non hanno una radicalizzazione una territorializzazione rispetto a un luogo ma che possono assumere appunto modulazioni diverse e per cui sono molto spesso nomadi questo rapporto appunto tra luogo comunità e progetto è uno degli elementi su cui ho cercato di lavorare in questi anni e questo progetto che vi faccio vedere adesso che è il design per le comunità temporanee nella città di Roma che è un progetto su cui ho lavorato con gli studenti della magistrale di product design di Roma questa è una magistrale internazionale dove raccogliamo di fatto studenti che vengono da tutte le parti del mondo abbiamo anche molti asiatici abbiamo molti studenti dal Medio Oriente anche sudamericani e così via e per cui diciamo è un progetto di intelligenza collettiva dentro il progetto di intelligenza collettiva e cioè noi lavoriamo di fatto con questi ragazzi che vengono che non sono legati al territorio di Roma ovviamente lo conoscono per la prima volta chiediamo a questi ragazzi di lavorare in gruppi internazionali per cui sono furi misti fra di loro e vanno a conoscere alcune comunità temporanee nella città di Roma che utilizzano lo spazio in maniera temporanea che cosa vuol dire comunità temporanea sono comunità di fatto che condividono alcuni interessi specifici per un periodo di tempo non hanno una reale gerarchia rispondono agli interessi culturali reali molto spesso sono migranti o comunque sia persone che vengono da luoghi diversi e utilizzano lo spazio pubblico in particolare in maniera temporanea questi ragazzi sviluppano esperienze di coprogettazione insieme a queste comunità e per cui come dire anche qui è un lavoro ancora una volta di intelligenza collettiva e di sharing della cultura in maniera ovviamente quasi bridata noi abbiamo mappato all'incirca 12 comunità temporanea nella città di Roma qui parliamo vi farò vedere molto velecemente alcuni dei progetti e alcune di queste comunità e queste comunità sono comunità di migranti per esempio sono di indiani che giocano a cricket a Piazza Vittorio il sabato sera abbiamo una comunità di cinesi che insegnano fanno scuola di tai chi in un parco di Roma il venerdì mattina abbiamo una comunità di pattinatori che pattinano nel centro di Roma il mercoledì sera abbiamo una comunità addirittura di ballerini di tango che fanno una scuola di tango in una piazza molto famosa sempre nella città di Roma di fatto sono comunità che utilizzano ancora una volta lo spazio pubblico in maniera temporanea svolgono attività culturale condividono un interesse per un periodo di tempo molto limitato sono temporanee anche perché molto spesso queste comunità come dire si solidificano e poi si si disciolgono poi in periodi di tempo per cui probabilmente non le potremmo ritrovare l'anno dopo o due anni dopo e di fatto i nostri studenti oltre a lavorare insieme a loro costruendo dei laboratori di coprogettazione insieme a queste comunità hanno costruito dei progetti che in qualche modo sono dei tools sono dei prodotti sono dei servizi sono dei sistemi che in qualche modo dovrebbero aiutarli non dico a solidificare ovviamente la loro esperienza ma sicuramente ad aiutarli questa è la mappa che abbiamo costruito nel primo anno abbiamo poi svolto nel primo anno alla fine del primo anno abbiamo fatto una mostra in una struttura del Comune di Roma che si chiama la Casa della Città e qui vedete una foto dell'allestimento e questo progetto sta continuando ad andare avanti e l'idea è come dire di esportarla pure in altre capitali d'Europa questa è Parigi o Londra per capire pure mappare appunto le comunità temporanee nelle altre metropoli europee e qui vi faccio vedere velocemente alcune immagini dei progetti delle comunità questa è la comunità del cricket che vi dicevo appunto a Villa Panfili questi sono i progetti i progetti sono tutti i progetti tecnologici perché il nostro il nostro la nostra magistrale è in e insieme l'abbiamo costruita insieme a ingegneria informatica per cui il laboratorio di fatto ha una componente legata appunto a computer science e internet of things è una componente invece più propriamente di design per cui come vedete tutti i progetti sono progetti tecnologici e Ritei Chrome che è un'altra comunità che intende fornire un servizio diciamo di pulizia di riqualificazione dei quartieri più degradati della città il tema appunto dei giardini urbani degli orti urbani Roma di fatto ha una serie ha una mappa molto importante di orti urbani spazi molto spesso degradati che vengono riutilizzati per una sorta di urban farming per vegetali e così via che riuniscono non solamente anziani pensionati ma anche giovani e questi sono i progetti di fatto sono progetti questi anche legati alla didattica per i più giovani insomma che chiaramente così hanno un rapporto nuovo con il territorio e con delle professioni più vecchie più antiche Giostra del benessere di fatto è una comunità di una piccola palestra in un parco urbano e fornisce a cui ancora una volta un servizio di fitness appunto per chiunque questi sono i progetti e Pincio Pincio.com è la comunità di pattinatori che il mercoledì sera come dire si svolge nel centro della città di Roma Little Free Library in questo caso si tratta di Book Crossing una comunità di Book Crossing in cui gli studenti poi hanno elaborato delle strutture di servizio appunto per la comunità stessa e la Critical Mass che ovviamente è una comunità di protesta soprattutto per le questioni di inquinamento delle automobili Tai Chi Chun questa è una comunità appunto che svolge un servizio di didattica di formazione rispetto al Tai Chi in un parco di Roma la domenica mattina Villa Celimontana Tango Clandestino di cui avevamo accennato poco fa Isola Fellina noi ci siamo pure occupati di comunità di animali anche queste di fatto sono delle comunità reali che sono comunità temporanee di fatto sono anche molto strutturate e molto spesso sono anche riconosciute dal Comune di Roma che le riconosce appunto in alcuni luoghi e sono anche protette e queste sono appunto le comunità dei gatti ma anche comunità spazi specifici per i cani in questo caso la Valletta dei Cani dove insomma è riconosciuto anche questo dal Comune di Roma stesso in fondo vi ho portato per concludere vi ho portato una citazione di Deleza e Guattari dai mille piani per il nomade è la deterritorializzazione a costituire il rapporto con la terra così che egli si riterritorializza sulla deterritorializzazione stessa la terra stessa si deterritorializza in modo che il nomade vi trova un territorio la terra cessa di essere terra e tenda di essere semplice suolo o supporto la terra non si deterritorializza nel suo movimento globale e relativo ma in luoghi precisi dove la foresta si ritira dove la steppa e il deserto crescono grazie Pino Mincolelli Università di Ferrara ok salve io condivido con voi qualche riflessione questo anno per me è il ventesimo in cui mi occupo di design in università e da sempre mi sono occupato di design inclusivo sostenibile accessibile e l'invito di Gianni che ringrazio come ringrazio l'università di San Marino e tutto lo staff che ha organizzato il congresso abbiamo preso in queste riflessioni che ho provato a condividere con voi una riflessione su cosa sta succedendo e su perché il design è diventato nella coscienza sempre più diffusa uno strumento importante per le problematiche di carattere sociale e civile diciamo che negli ultimi 200 anni sempre più velocemente da che erano passate centinaia e centinaia di generazioni in cui tutti sapevano e vedevano cosa facevano tutti i luoghi in cui si fanno le cose in cui si producono le cose si allontanano dalla città sempre più velocemente qui siamo a fine 800 a Londra questi sono commuters sono i primi commuters che si muovono dalla periferia al centro e anche i luoghi in cui si consumano le cose cambiano dai luoghi in cui si vedono i frutti del lavoro in cui sappiamo chi coltiva le cose e quanto tempo ci ha messo cosa ci ha messo per farle a luoghi in cui le cose appaiono magicamente tutti i giorni in quantità inconcepibile senza nessuna relazione con i luoghi e i tempi e i modi in cui sono state prodotte la conseguenza è l'inconsapevolezza il rapporto con le cose è totalmente inconsapevole è un rapporto puramente strumentale di fruizione non cosciente io magari gratuito ma insomma a me sembra molto pertinente quelli che hanno più o meno la mia età riconosce questa immagine questo è il materializzatore di Star Trek è il posto nell'astronave in cui si può mangiare qualsiasi cosa basta chiederlo perché è una cosa che stampa in 3D il cibo e questo siamo negli anni 70 un po' avanti l'idea che qualsiasi cosa è materializzabile da niente senza conseguenze senza il lavoro di nessuno senza che nessuno l'abbia sofferto che nemmeno l'ambiente sia stato violato senza nessuna conseguenza un consumo totalmente inconsapevole la fabbrica di cioccolata piovono polpette e la conseguenza poi alla fine è questa qual è il tuo metodo di giudizio su cose di cui non sai niente il punto di partenza secondo me per diventare coscienti del ruolo di design in una società di consumi in un periodo di trasformazione come questo associando sostenibilità e coscienza civile è questo che il valore delle cose non è il loro costo che una valutazione quantitativa è facile è comoda è obiettiva è oggettiva è comunicabile è semplice è matematica è traslinguistica ma è falsa in una società sempre più orientata alla quantità noi siamo i latori della qualità ora è un po' buttata lì è un po' buttata lì ora ci andiamo un po' più vicini non da oggi non da oggi questa è la saliera del Cellini la famosa saliera del Cellini Cellini rappresentò Ippolito d'Este quando ancora lavorava in Italia il polito d'Este che è un potentissimo cardinale ferrerese che disse sì bellina ma dopo essersi consultato con il cesano dice no troppo costosa non fa per me questa è una roba degna infatti poi quando il Cellini andò a lavorare in Francia la propose al re di Francia il re di Francia la fece volentieri una saliera così costosa che solo un re se la poteva permettere ed è una saliera che non parla né di sale né di pepe pur contenendoli parla del potere politico di chi la possiede racconta tutto un indotto un non detto un sottinteso di forza di struttura di governo di cultura attraverso una presentazione così nonchalante di cultura sopraffine questo percorso velocissimo verso l'inconsapevolezza ha avuto un'accelerazione nelle ultime dieci generazioni con la progressiva smaterializzazione dei prodotti la nonchalance con cui il re di Francia metteva la saliera del Cellini a tavola per apparire grande ce l'ha oggi Google nel regalarci Google Maps Google Maps costa migliaia centinaia di migliaia di volte più della saliera del Cellini e Google ce lo regala questo è Maps per arrivare qui il Cursal di San Marino chi non lo usa lo usiamo tutti e chi si sente particolarmente benedetto da Dio nel momento in cui lo usa chi si sente particolarmente grato al signor Google mentre lo usa chi prova un sentimento di totale riconoscenza e ricorda nelle sue preghiere serali il signor Google questo è un altro aspetto dell'inconsapevolezza il fatto che noi diamo per scontato un regalo di questo tipo e alla fine ci assoffiamo questo è il livello di qualità minimo accettabile per noi siamo un po' viziati per quanto riguarda la user experience il problema è che la user experience influisce sul comportamento cioè noi ci comportiamo sempre con i romani comportati come i romani noi ci comportiamo sempre più o meno come il contesto in cui siamo e la percezione di qualità del contesto influisce sul nostro comportamento quindi quando la nostra cosa pubblica ci offre una UX deludente un'esperienza d'uso deludente noi ci comportiamo in maniera deludente e questo implica dei costi a livello pubblico enormi cioè la diseducazione indotta da una presunta inadeguatezza del servizio offertoci ci autorizza a comportarci in maniera costosissima in termini sociali civili economici anche per il nostro Stato questo sottinteso perché noi ci sentiamo un consumatore di Stato noi non ci sentiamo lo Stato noi ci sentiamo come qualcuno che ha diritto a dei servizi da parte dello Stato e i servizi devono essere all'altezza di quelli forniti da Google Facebook e questo lo diamo per scontato nei corsi che tengo sulla sostenibilità ho provato a puntare su tre su tre parole perché secondo me non si risolvono problemi come sostenibilità civiltà socializzazione inclusione lavorando sui terminali cioè lavorando sui prodotti nemmeno lavorando sui servizi si lavora sul comportamento delle persone sulla consapevolezza per primo luogo cioè sapere sapere le conseguenze di ciò che facciamo o da dove proviene ciò che usiamo o che cosa farà ciò che buttiamo per dire una maglietta costa 5 euro 10 euro ma se sapessi che per produrla vengono usati 100.000 litri d'acqua che io non mi stupirei di pagare un euro al litro no cioè se andate qui al bar prendete una bottiglia d'acqua per un euro ci state la vostra maglietta ne consuma 100.000 e la pagate 10 euro poi l'ago d'ara diventa un deserto e poi l'equità l'equità un progresso sociale un progresso economico un progresso di innovazione non è nulla se non è condivisibile la compatibilità scusate non l'ho sottolineato abbastanza avere dei vantaggi ma compatibili al nostro contesto al nostro stile di vita al nostro organismo sognare di avere cose che non ci fanno bene no è tempo perso sono soldi persi energia persa questo è un concetto contemporaneo di equità io sono più o meno disabile a seconda di quanto è abilitante il contesto in cui vivo nelle società in cui i sottotitoli sono disponibili essere non udente non è un così grande problema come lo è dove non ci sono quindi quanto è supportivo l'ambiente in cui viviamo cambia il mio livello di inclusione e di abilità e questo le responsabilità dei progettisti sono altissime che cosa è che cambia il comportamento dei cittadini nei confronti dello Stato e la possibilità di sentirsi Stato ora ci sono tantissimi strumenti tecnologici ho visto che c'era Ciocarelli oggi lui parla dei dati il dato è la materia del design del futuro anzi del presente perché Google ci regala Maps perché ci sono i nostri dati che possono essere monetizzati ma i dati sono anche una chiave per rendere tutti i servizi personalizzati a ogni singolo cittadino per rendere come l'ultimo libro di Gianni lo Stato da una immagine percepita a un luogo di interazione da un brand a una piattaforma io ancora non l'ho letto ma dal titolo mi pare di intuire ti ho fatto un lancio ti ho fatto un lancio ma da brand a piattaforma un posto dove si interagisce se io interagisco se io interagisco poi sono parte chi di voi odia YouTube nessuno no perché perché il contenuto di YouTube siamo noi no YouTube non ha un contenuto non rappresenta qualcosa di diverso da noi siamo noi una piattaforma è questo il design è una disciplina per questo è contemporanea e è autorizzata a portare risposte in termini di aumento di consapevolezza compatibilità e di inclusione perché umanizza le tecnologie ora devo andare un po' più veloce non vi dico tutto il problema dell'educazione civica faccio un doppio salto mortale è che la insegniamo insegniamo le norme insegniamo le leggi su un piano logico il comportamento non si muove sul piano logico cioè io posso insegnare lo diceva prima anche Medardo Chiapponi io posso insegnarle le cose no posso posso farle memorizzare a spiegarle su un piano logico posso interiorizzarle anche cognitivamente ma questo non cambierà il mio comportamento il mio comportamento cambia nel momento in cui io partecipo alla costruzione di questo bene immateriale che sono sostenibilità civiltà il fatto che io contribuisco a cambiare una cosa cambia la mia percezione di quella cosa stessa una volta per sempre per cui se io tengo chiamato a partecipare allo Stato io sentirò lo Stato a parte di me questa è una lettura che devo a Lorenzo Invesi che mi segnalano Merleau-Ponty e suggerisco a tutti i designer di leggerlo Merleau-Ponty dice che il primo uomo che ha toccato un sasso ha cambiato l'umanità per sempre la razza umana ha questo di particolare che quando impara le cose con il corpo cioè con il comportamento questa lezione questa nozione si trasmette in maniera implicita ed è un canale molto più rapido e molto più quasi biochimico ci sono teorie che stanno studiando su questo verificando la codificazione del DNA dei comportamenti per cui è una conoscenza che si trasmette a tutta l'umanità rapidamente molto più rapidamente che non la logica Giovanni Lanceschi direbbe che è somatica faccio vedere un po' di lavori e ne traiamo qualche riflessione su quello che abbiamo detto nel 2012 e poi fino al 2014 io insegno a Ferrara ci fu un terremoto in Emilia Romagna qui ancora ci sono gli strasciche per cui venivamo chiamati con l'Adi a collaborare con il comune di San Possidonio molti edifici compreso la chiesa caddero crollarono e gli studenti vennero portati a interagire con le persone che abitavano nel quartiere nuovo dei container questo quartiere è buffo è un quartiere in cui sono finiti gruppi sociali che erano perfettamente divisi nel paese le persone di antichissima data che vivono nelle case più vecchie ma non avevano i soldi per ricostruirle subito gli immigrati che stavano nelle campagne i più poveri del mondo e poi anche persone in attesa di trasferimento per cui era una comunità estremamente eterogenea che non riusciva a convivere in un luogo senza identità perfettamente isolato dal paese e senza nessuna struttura abbiamo fatto una prova di interazione non ancora di co-design ma di colloquio trasformando le storie che ci venivano raccontate in obiettivi di progetto la cosa buffa è che tutti gli studenti si pensavano di dover riprogettare i container per farli più efficienti e invece le domande riguardavano dei posti in cui poter fare delle cose per migliorare i container oppure dei luoghi in cui poter prendere decisioni insieme oppure qualcuno che ci aiuti a capirci a vicenda perché non ci capiamo e questa cosa fu sorprendente gli studenti capirono che l'oggetto in sé non è così determinante quanto i significati e le opportunità di interazione che un oggetto può produrre questo è un altro esperimento che si fece qualche anno dopo in India su una stazione in collaborazione con l'Enedil National Institute of Design sulla stazione degli autobus di Ahmedabad 5 milioni di persone povertà assoluta non è una delle città più industriali dell'India quindi tanta povertà questa era questo è il bar questa è la fila per il biglietto anche questo è l'imbarco questo è l'autobus ci sono salti di 30-40 cm per fare il primo gradino il tema era l'accessibilità insomma la lezione di tutto questo fu che sì bellissimo fare il progetto della nuova stazione dei nuovi autobus ma l'accessibilità più forte fu scoperta durante le interviste con le persone una signora ci dice ma io devo prenderlo spesso l'autobus mi va via quasi un quinto di quello che guadagno in un mese perché devo andare in Kerala che sono diverse migliaia di chilometri 3-4 mila chilometri insomma unito lo stipendio quanto prende lei il signor 10 euro al mese quindi prende pagare 2 euro per fare 4 mila chilometri cacchio no? è un servizio accessibile sì per lei è un quinto dello stipendio ma paragonato ai costi intrinseci è nulla è quasi gratuito quindi tutto tutto quello sporco visto con la mentalità occidentale è ciò che permette l'accessibilità del servizio allora se io con l'idea del design occidentale di farlo tutto lucido vado ad aumentarlo di costo lo rendo meno accessibile quindi si facevano dei progetti che non influivano sui costi l'altra è un progetto di ricerca che stiamo facendo in questo momento su un sistema di smart object che mi occupo di queste cose qui per l'autonomia degli anziani abbiamo fatto dei workshop di co-design la faccio breve questa signora mi ha detto questa frase che mi ha cambiato per sempre per questo il co-design è importante perché per quanto tu sia vecchio per quanto tu li abbia viste tutte alla fine c'è qualcuno che ti taglia il cuore a metà così i sistemi automatici sono fantastici ma io ci rimango male perché dopo che mi hanno aiutato non gli posso dire grazie porca miseria no? cosa vuol dire partecipazione? la partecipazione è un bisogno dell'uomo per sentirsi le cose sue perché è una questione di dignità se uno Stato non ti permette di partecipare non solo non ti fa un buon servizio non ti permette di avere dignità quindi un design non è quello che la rappresenta la qualità nemmeno quello che la realizza è quello che permette ai cittadini di realizzare la qualità dello Stato si produrre servizi oggetti interfacce ma soprattutto produrre interazione modi di partecipazione ora vado velocissimo tanto poi ve le danno queste finisco con la frase con la frase io mi occupo di design inclusivo sono il direttivo di design for all'Italia questa è una frase che è molto importante cioè se un design non aumenta le capacità delle persone non le potenzia non è un buon design il design serve a far di tutti noi degli uomini migliori se no è tempo perso grazie Maurizio Viroli cari amici non pensavo di intervenire ma sono stato costretto dagli interventi che ho ascoltato perché ho il dovere morale di ringraziare i colleghi disegnatori come ho deciso di chiamarmi in maniera buonaria e affettuosa per quello che mi avete insegnato e in particolare vorrei darvi soltanto un esempio e chiudere con un'osservazione due giorni tre giorni fa quando abbiamo iniziato questa avventura il 28 di maggio nella mia il mio intervento introduttivo spiegai che a mio parere la coscienza civica è prima coscienza dei doveri e poi coscienza dei diritti i doveri prima dei diritti per una ragione ovvia perché i diritti senza doveri rimangono pure speranze o illusioni considerate che ci sono tanti studenti hanno il diritto allo studio il diritto alla cultura ma se non ci sono insegnanti noi che sentono il dovere di insegnare loro il loro diritto alla cultura rimane una mera aspettativa o una speranza pensate al diritto alla sicurezza se non c'è un sistema giudiziario se non ci sono forze dell'ordine con persone che sentono il dovere di tutelare la sicurezza dei cittadini la sicurezza dei cittadini rimane una mera illusione ora di questo mio concetto ho trovato una verifica che mi ha commosso stamattina quando sono andato per un impegno lì all'università come si chiama il convento Santa Chiara no Santa Chiara lì a Santa Chiara e ho trovato un manifesto strepitoso che parlava di una festa che penso voi studenti abbiate organizzato l'altra sera per poco non svenivo c'è scritto letteralmente se ho sbagliato partecipare alla festa è un dovere civico è stata la ricompensa di anni di sacrifici e di umiliazione la ricompensa di anni di sacrifici in cui mi hanno deriso tutti per questa mia idea che i doveri vengono prima adesso prendo quel manifesto lo faccio vedere la seconda ragione della mia non formale gratitudine è questa io mi sono sempre posto il problema non tanto non solo di che cos'è la coscienza civile ma come la si può fare rinascere mi piace questo tema far rinascere riscoprire prima di venire qui a San Marino avevo tre risposte che rifilavo ai malcapitati che seguivano le mie lezioni si rafforza si fa riscoprire con la parola si fa riscoprire con l'esempio che dai tu di coscienza civile con i rituali con le memorie cosa ho imparato qui a San Marino cosa mi avete insegnato voi colleghi mi avete insegnato che il design come lo intendete voi si pone sempre il problema di cosa fai me l'ha spiegato la collega che insegna Genova cosa fai c'è un problema di rifiuti c'è un problema di devastazione dell'ambiente c'è un problema di spreco di risorse alimentari di cibo voi non ponete ai vostri studenti la domanda è giusto o ingiusto questo è ovvio è sbagliato o è corretto dice cosa facciamo e cominciate a definire delle pratiche ecco prima di venire qua io pensavo che i disegnatori cioè voi ci potreste potreste poteste aiutare noi filosofastri civili in due modi rendendo i concetti visibili perché sapete fare tradurre in immagini poi ne avete combinate un altro che ho imparato ieri dal collega adesso non lo vedo più addirittura rendete visibili i dati un fatto quasi miracoloso oggi ne ho imparato un altro cioè con le pratiche ecco come si rafforza ancora di più la coscienza civile con le pratiche che voi invitate voi invitate i giovani e le persone a fare e nel fare insieme nel modo in cui con un orientamento davvero la coscienza civile cresce quindi il mio ringraziamento è un impegno che prendo con il magnifico rettore che questa impresa deve continuare grazie siamo quasi perfettamente nei tempi questo è lungi da me voler fare un intervento conclusivo che non sarebbe neanche come dire in linea con questa esperienza che abbiamo portato avanti per cinque giorni che vuole essere appunto un eventualmente un primo passo per ulteriori scambi può essere invece utile riepilogare un po' come è nata tutta questa iniziativa perché appunto con Maurizio Viroli quando siamo arrivati ci siamo trovati a discutere a parlare di quella che è una sensazione molto diffusa fra tutti noi cioè vale a dire la percezione che il senso civico che la consapevolezza dei nostri diritti e dei doveri sia fondamentalmente in declino e molto prima anche di domandarsi chi e quale disciplina può essere d'aiuto in tutto questo la prima domanda da farsi è come possiamo incidere in una qualche forma su un processo molto complesso che chiama in causa motivi e ragioni di ogni tipo sociali economiche storiche eccetera una cosa che sappiamo noi progettisti è che per affrontare problemi complessi è necessario trovare soluzioni innovative e quindi ci è sembrato utile che queste soluzioni innovative potessero emergere da un dialogo fra discipline diverse fra storia filosofia economia design stesso è quello che si chiama il principio della consiglienza vale a dire cercare di portare soluzioni che sono state elaborate all'interno di discipline diverse in una maniera convergente certo che farlo non è per niente semplice e fra il pubblico fra gli studenti che avranno seguito queste giornate forse ci potrà essere stato anche qualche attimo di smarrimento direi sarà sembrato sicuramente ostico per esempio mettere a confronto l'Atene di Pericle divisa fra l'elogio della democrazia e la sua feroce satira con il design delle relazioni che cercano di progettare inclusione piuttosto che aver parlato degli uffici di Cicerone e le forme che può assumere la vita civile insieme con la didattica del social design ancora l'educazione aver messo a confronto l'educazione alle passioni la formazione del cittadino cioè attraverso quella relazione fra sapere e sentire e i valori di innovazione sociali che possono derivare dalle politiche del quotidiano vado a dire da mettere in atto piccole azioni in grado di modificare la complessità dei problemi abbiamo visto anche come i dati possono essere utilizzati per esempio per un'azione molto civile che è quella della lotta contro la corruzione e come però questi dati assumono acquisiscono senso solo quando gli si dà una leggibilità e questo è proprio l'essenza del design ma questa leggibilità non si limita solo alla rappresentazione grafica visiva dei dati ma è necessario aprire quella che ieri Ciuccarelli appunto ha definito come le black box cioè entrare dentro a quelli che sono per esempio gli algoritmi che governano molti dei sistemi con cui ci confrontiamo quotidianamente e che Pino Mincolelli ha come dire perfettamente delineato e raccontato essere consapevoli dunque che il nostro essere cittadini passa da una continua ricerca della conoscenza di quello che ci sta intorno soprattutto per quanto riguarda il riuscire a dominare quello che sono i processi della società quindi noi non siamo i nostri diritti non sono diritti che riceviamo e che ci manteniamo così come sono devono essere continuamente mantenuti e eventualmente ricontrattati al momento in cui le condizioni cambiano perché abbiamo visto appunto proprio da questi esempi come oggi la società e i rapporti che i cittadini hanno con la società sono molto diversi da quelli che erano qualche tempo fa ed è per questo che l'educazione civica di cui eventualmente di cui parliamo di un'eventuale ricostruzione è evidente che non può essere l'educazione civica che aveva pensato Aldo Moro nel 1958 dobbiamo trovare le modalità con cui possiamo aggiornare questa costruzione della nostra consapevolezza di cittadini dunque serve ancora però spogliamoci pure la domanda a monte oggi l'educazione civica noi sappiamo che come educatori all'interno dell'università per esempio sappiamo che da qui a vent'anni buona parte dei lavori che saranno richiesti fra venti anni sono lavori che attualmente non esistono neanche quindi che formazione possiamo dare che insegnamento possiamo dare affinché gli studenti e i cittadini del futuro siano pronti a queste sfide che non sappiamo definire in questo momento è importante che la consapevolezza insegnare che esistono dei diritti e dei doveri in un rapporto molto dialettico e dinamico è una forma per prepararsi a quello che è il futuro soprattutto per far sì che le opportunità che deriveranno dal futuro non siano perse non vadano come occasioni perse facciamo un esempio se le occasioni dobbiamo essere in grado di gestire di saper consapevolmente gestire le offerte per esempio di una sharing economy senza necessariamente finire tutti a fare i fattorini di fudora o di just it i nostri diritti si devono adattare o meglio devono essere pronti a confrontarsi con realtà di cui in questo momento non siamo in grado di definire esattamente i confini direi che l'educazione civica è un po' come l'insegnamento del latino o del greco non serve assolutamente a nulla salvo al fatto che è in grado di dare delle risposte a domande che ancora non si appena formulari io concludo qui ovviamente la domanda finale è il design in tutto questo può essere un attore fattivo non lo so dico la verità sinceramente penso di sì e mi sembra che le esperienze che sono state portate oggi qui su questo palco vadano sicuramente in questa direzione senz'altro sarà un tipo di processo che avrà bisogno comunque di essere continuamente mantenuto abbiamo qualche minuto se volete per qualche scambio fra di noi che può essere domande o interventi ulteriori su soprattutto mi piacerebbe che da questa settimana potesse nascere poi un un proseguo noi abbiamo delle idee di poter proseguire questa esperienza non sappiamo se con un master piuttosto che una summer school piuttosto che semplicemente con uno scambio di mail per raccontarsi le esperienze che facciamo per cui vi ringrazio della pazienza di tutto questo in tutta questa giornata e passo la parola a a chi vuole appunto intervenire dal pubblico grazie buongiorno mi presento sono Anna Marina Lozica e fra le altre cose in questo momento sono la presidente della commissione per le politiche giovanili e semplicemente volevo ringraziarvi per avermi permesso di partecipare dal pubblico tutta la settimana perché mi avete permesso tutti quanti di respirare a pieno cervello o di pensare a pieni polmoni mettetela come volete e comunque mi avete convinto a continuare a resistere mi chiamo Riccardo Varini qualcuno mi conosce qualcuno no faccio solamente una velocissima riflessione ringrazio tutti assolutamente penso che siamo cresciuti noi come designer e tentiamo anche di portare avanti questo progetto per cui queste riflessioni velocissime fanno anche un po' per quanto mi riguarda una piccola sintesi e forse danno anche qualche traccia ai ragazzi che sono anche al centro del nostro pensiero come formatori per me è importante anche questo convegno perché in qualche maniera sposta l'asse dell'attenzione dal progetto che per noi è nodale anche semplicemente alla maggior conoscenza conoscenza critica perché questa conoscenza critica evidentemente può portare a una maggiore consapevolezza allora tre velocissime note dove guardare Manzini e secondo me soprattutto Ossola ci suggeriscono di guardare per esempio anche al mondo animale e vegetale l'abbiamo visto poi anche oggi con imbesi alcuni cenni no? quindi non solo l'uomo al centro del progetto proviamo a pensare anche cosa fanno gli animali in questo mondo cosa fanno gli animali non solo quelli domestici anche altri animali le api per esempio e molti designer hanno affrontato questa tematica io suggerisco agli studenti di guardare il mondo animale e guardare il ciclo anche del mondo vegetale secondo quali valori e diritti valori per i diritti e i doveri possono essere al centro del nostro pensiero abbiamo sentito Ciuccarelli sui data e sulla pericolosità e invece anche i valori alti che ci possono portare ci può portare l'elaborazione di questi data e abbiamo sentito anche Pucci sulla corruzione la riflessione che faccio è la corruzione per molti di noi però abbiamo visto una cartografia molto delicata e anche molto triste la corruzione per molti di noi è un male per altri invece è un valore è una virtù allora molti giovani si pongono oggi il problema di capire quali siano i valori e anche quale sia il senso dei valori che stanno guardando e quindi come riflettere intorno a questi valori quando la società ci propone dei valori totalmente discordanti ecco allora io suggerisco per esempio in questo caso di ricercare valori condivisi anche a livello globale da questo punto di vista guardatevi assolutamente quello che suggerisce l'UNESCO e quali sono gli obiettivi che l'UNESCO ha messo al centro di uno sviluppo sostenibile in ultimo mi viene da dire perché ci tengo dal punto di vista didattico ma anche dal punto di vista del cittadino che è in me e penso anche a quello che ci ha detto Canfora sulla democratia ma una democratia nel periodo di Pericle o di Tucidide nella quale la guerra era l'elemento fondamentale e la pace era elemento molto raro ecco allora noi dobbiamo guardare probabilmente e pensare anche ai luoghi di soglia ai luoghi di conflitto nei quali si incontrano e scontrano le comunità e sono luoghi nei quali felicità e dolore evidentemente fanno parte della consapevolezza di sé e della società speranza e paura sono degli ingredienti che ci fanno riflettere e ci fanno riflettere anche rispetto a quello che aveva lanciato come tema Viroli ovvero sullo sdegno che noi dobbiamo provare come cittadini e quindi questi luoghi di soglia per me sono i luoghi nei quali gli immigrati entrano nelle nostre città e noi non sappiamo accoglierli ma non sappiamo nemmeno confrontarci nella loro felicità e speranza e nel loro dolore e sono anche i luoghi invece purtroppo e pensiamo solamente alle carceri ma anche purtroppo ai luoghi nel quale si sopprimano le vite dei nostri concittadini pensiamo che questi siano veramente i luoghi nei quali il nostro pensiero deve approfondire assolutamente la propria conoscenza io avrei una domanda per Dan intanto ringrazio i designer che mi hanno mi hanno lasciato senza parole perché ascoltato il primo ho detto vabbè uno può essere molto bravo ok poi il secondo ho detto anche il secondo molto bravo ma non c'è male e poi il terzo il quarto il quinto non ce n'è stato uno che non mi abbia lasciato a bocca aperta per cui io vi ringrazio tantissimo e mi meraviglio che ci sia una facoltà almeno voi rappresentate una conoscenza diciamo che ha al cento per cento qui questa sensibilità civica che io non trovo non ho mai trovato per la mia esperienza da altre parti nelle università quindi vi ringrazio moltissimo invece chiedo a Dan nella sua esperienza così dolorosa e tragica di tanto in tanto per quello che accade nella sua patria se per quanto riguarda il suo lavoro ha mai usato il design e se questa esperienza samarinese lo se non ha mai usato il design lo ha in qualche modo stimolato ad usarlo non tru teologico dogma ma practice to the visual that's the short answer to this question so what I want to say this is for me really innovative and we should, we I should do more in covering the amazing distance that I saw here thank you very much thank you tre piccolissime cose per quanto riguarda il discorso di Gianni noi quest'anno abbiamo messo nella magistrale che coordino, la magistrale prodotto evento a Genova un corso a scelta che si chiama design di vite future proprio per parlare di quel design di vite future non è un corso dove c'è chiaramente un docente che dall'altro della cattedra insegna è un corso che si basa su una piattaforma dove i ragazzi lavorano insieme magari l'anno prossimo vi potrò raccontare come è andata per ora vi posso solo dire che chiaramente ha avuto un numero di iscritti che nessun corso a scelta poteva mai immaginarsi di avere la seconda è che credo che un evento come questo bellissimo e un momento della pitch session forse debba essere all'inizio e non alla fine perché comunque è dove si buttano i semi e dopo cioè io ora avrei voglia di parlare tantissimo di queste cose e confrontarmi con tutti e credo che questo dovrebbe essere appunto un modo per far crescere anche il vostro obiettivo che come vi ho detto dall'inizio trovo meraviglioso la terza è che qui siamo in diversi della società scientifica perché c'è Daniela ci sono io c'è Lorenzo e comunque c'è Medardo che è stato il past president credo di poter dire anche a nome di tutti che questo è un tema che per la società scientifica è fondamentale è importantissimo e penso che dobbiamo stringere veramente il collegamento e andare avanti con questa strada che vi ringrazio davvero con tutto il cuore di aver aperto io mi stavo facendo una domanda da studente in relazione alle utopie sull'università di cui abbiamo parlato con Rudy e Vera Baur è davvero necessario che l'insegnamento della coscienza civica o della filosofia o dell'etica venga presentato come un corso un master un qualcosa di strutturato oppure possiamo semplicemente inserire queste piccole cose all'interno di ogni singolo corso che facciamo cioè mi spiego corso di comunicazione visiva noi arriviamo alla fine del corso con degli elaborati con un progetto se all'inizio di quel corso e all'inizio di quel progetto fosse inserita questa componente cioè sarebbe possibile farlo o è necessario davvero parlare di qualcosa di separato di un corso specifico che parli solo di quello domanda rivolta a tutti i docenti in sala tutti abbiamo in mente questa domanda perché tutti siamo progettisti di offerte didattiche e questa è una delle domande che ci assilla da quando abbiamo iniziato questo progetto e questa è una delle risposte a cui non possiamo dare oggi perché questa domanda è veramente la più complessa più volte mi chiedevo dobbiamo mettere dentro corsi di antropologia sociologia e questo è un altro corso che a un certo punto deve entrare deve ma sappiamo bene che lo spazio dei crediti la struttura è tutto stretto e man mano che inseriamo altre cose la coperta è piccola e non funziona questo è uno dei compiti che ci dobbiamo dare anche come gruppo perché ci dobbiamo chiedere come effettivamente andiamo a fare questo lavoro Fabiano ci ha ricordato prima una cosa che era molto importante e che poco alla volta in tutta questa giornata magari ci ha passata di mente siamo dentro anche a un sistema un sistema in cui molte volte il nostro ruolo è un ruolo che in qualche maniera un tempo si è detto che rischiava di diventare marginale però il rischio è quello anche di voler dire stiamo su una dimensione che lavora su territori ma perdere la dimensione invece di tutto quello che sono gli altri mondi abbiamo demonizzato alcune cose abbiamo parlato in alcuni casi che lavorare su certi identità chiuse sul brand su altre cose non sono gli interessi primari dobbiamo capire nel prossimo diciamo nel periodo che ci aspetta nel periodo che avremo a disposizione fino al prossimo incontro che potremo organizzare quali sono anche le modifiche della nostra offerta didattica se altri colleghi vogliono partecipare io volevo provare a tentare una risposta perché tra i vari corsi che io faccio all'università c'è un corso di comunicazione etica per cui come dire è proprio legata alla domanda che tu hai fatto la mia sensazione ma poi i lavori che sapremo saremo in grado di mettere in piedi per il futuro ci potranno dire indirizzare meglio rispetto ad una possibile soluzione però la mia sensazione è che quando tu affronti questi temi diluiti all'interno di altri corsi di altre tematiche in qualche modo tu non dai peso alle parole che stai utilizzando e il significato delle parole che tu stai utilizzando quelle che abbiamo usato oggi consapevolezza responsabilità capacità di interazione di dialogo con l'altro in qualche maniera le diamo per scontate viceversa avere un corso fondativo nel quale uso a prestito una definizione ma non metti le parole e in qualche maniera ne rifondi il significato a quel punto come dire tu cementifichi all'interno di una formazione delle persone cementifichi dei pilastri che in qualche modo poi difficilmente riesci a dimenticare quindi io credo che invece sia un corso fondamentale da fare proprio al primo anno di una triennale grazie un'ipotesi del nostro lettore è che questo corso sia aperto sia multidisciplinare e che non sia solo dei corsi di lab and design ma lavori su tutti le offerte formative questo è uno dei temi e questo è un altro tema su cui dovremmo ragionare altre domande? ok abbiamo finito davvero grazie a tutti grazie